Grazie a tutti. Vado subito in studio e partiamo con la sigla e con Gianluca Pilò e Luigi Papa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Novità che riguardano Roma, Malagrotta, ma anche la statale dei Monti Lepini, quel ingorgo, quel blocco che praticamente impediva la circolazione tra la provincia di Latina di un tratto e la provincia di Frosinone. Ci sono novità per quanto riguarda Sezze, novità dell'ultima ora, esattamente di cinque minuti fa. In più di Malagrotta ci sono novità, Maia vi darà tutti gli aggiornamenti. Ci sono novità per quanto riguarda le inchieste dell'antimafia, la parte centrale guardatela perché mostreremo in televisioni i verbali di uno dei pentiti collaboratori di giustizia più attesi insieme a Maurizio Zuppardo. Il collaboratore di giustizia faceva parte del clan dei Ciarelli, Andrea Pradissitto. Ci sono cose interessanti nei verbali che pubblicheremo questa sera e vi li faremo vedere in diretta su vicende che aprono altri fronti ed inchieste. Poi parleremo anche di libri, le storie nascoste di Latina, la parte seconda, l'inquinamento della vita politica e amministrativa ai tempi del centrodestra. Latina domani nel capoluogo Pontino insieme ad Emilio Orlando, l'autore Stabile, Andrea Stabile, racconterà di questo libro nel quale ha pubblicato altre carte giudiziarie che riguardano l'ex sindaco di Latina. Vincenzo Zaccheo, Stabile, sarà nella terza parte del nostro monitor, della nostra trasmissione, sarà in studio con noi, ci darà delle anticipazioni, delle carte che lui ha recuperato su quella inchiesta che poi alla fine non si sa perché fu affossata, che è un mistero che ancora rimane sul perché, quell'inchiesta fu affossata. Ma prima parliamo un po' di, perché siamo fondamentalmente dei sentimentali e romantici, anche facendo questo mestiere. Ho sentito prima di andare in onda il nostro presidente Gianfranco Sciscione, che da persona molto sentimentale, Ulio Iglesias avrebbe cantato un sentimental. Abbiamo parlato e c'era un po' di malinconia perché domani, sapete, come sapete, è iniziata la settimana dello switch off, cambiano i numeri di canale, ma domani si spegne un canale storico per questo gruppo, praticamente il canale che l'ho accompagnato dalla nascita, che è il canale 46, che a molti di voi non dirà niente, ma è un canale dell'alta frequenza, il 46 che ha veicolato sempre, domani si spegne perché domani c'è lo switch off su Roma. Quindi mi rivolgo ai telespettatori di Roma, domani mattina, dalle 7 in poi, non vedrete le televisioni private, per almeno, credo, 2-3 ore, perché ci sarà questo cambio. Quindi dopo 2-3 ore dovrete fare la risintonizzazione e vedrete i canali con la nuova numerazione. Si chiama switch off, si spegne, dopo 2-3 ore riaccenderete, comunque parliamo delle televisioni locali, delle nostre televisioni regionali, in merito a questo, con la risintonizzazione, vedrete meglio, sicuramente, e vedrete i canali nella nuova numerazione. Questa operazione è già accaduta nei giorni scorsi a Viterbo e Provincia e a Rieti e Provincia. Domani tocca a Roma, quindi con tutto quello che comporta la capitale, con un bacino di 4 milioni di telespettatori, quindi non spaventatevi. Domani mattina, se volete vedere la nostra segna stampa, in attesa ovviamente che riprenda il segnale, la potete vedere sul nostro sito www.laziodv.it o con la nostra app sui vostri telefonini. Insomma, domani mattina, anche all'alba, ci potrete seguire con tutti i nostri mezzi, con il sito internet, con la nostra app, quindi non ci sono problemi con i nostri social. Però tutto questo, ripeto, accadrà domani mattina, riguarderà Roma. Poi, nei giorni successivi, chiaramente venerdì eccetera, toccherà a Frosinone e Provincia e toccherà a Latina e Provincia. Come sempre c'è lo switch off, si dovrà aspettare, si dovrà fare la risintonizzazione. Diciamo il clou, c'è nei prossimi giorni, siamo partiti nel clou, nella parte finale, dal 14 di giugno fino al 17, si concentrano tutte le altre città. Vi faccio vedere il promo, vediamo. La nuova sintonia deve essere effettuata tra il 14 e il 17 giugno per Roma e Provincia, Latina e Provincia e Frosinone e Provincia. Quindi, come avete visto, fino al 17 giugno parte, quindi, work in progress, il nuovo digitale terrestre. Però mi preme per Roma e, ovviamente, la provincia di Roma. Domani mattina dalle 7 ci sarà lo switch off, quindi dalle 7 non vedrete emittenti regionali. Dovrete aspettare circa un paio d'ore, dopo rifare la sintonizzazione, c'è chi la farà molto dopo, risintonizzare, avrete i nuovi canali. Li avete visti prima? Gold lo troverete al canale 11, Lazio TV lo troverete al canale 13. Tutto questo accadrà per Frosinone e Provincia e accadrà anche per Latina e Provincia. Questa settimana si completa lo switch off. Un po' di malinconia c'è perché si spegne quel canale, il 46, come diceva il nostro presidente, storico. Quindi, un po' di malinconia c'è. Però noi guardiamo avanti, quindi siamo in questa nuova tecnologia, nel cosiddetto nuovo digitale terrestre. Vedrete meglio e vedrete ovviamente un segnale molto più vasto e quindi questa è la cosa nettamente positiva. Partiamo dalla stretta attualità. Allora, la stretta attualità, prima di entrare nelle inchieste, nel clan Ciarelli, nella figura di uno dei collaboratori di giustizia che sta aprendo altri squarci molto importanti sulla lotta ai clan e alle mafie, ma non solo, ai clan di Silvio Ciarelli, perché si parla di altro. Parliamo invece della stretta attualità. Il Covid, notizie non proprio confortanti, però. L'ambiente, ma la grotta, le ultimissime novità, eccetera. Maia, buona serata. Allora, partiamo dal Covid. Dati altanenanti, purtroppo però dati che, malgrado ci troviamo a giugno, quasi a luglio, insomma, ci aspettavamo un dato inferiore, invece salgono. Allora, se ci dai intanto il quadro della giornata e poi ci dai quello che ha detto anche il sottosegretario alla salute, Sileri. Sì, prima di tutto buonasera a Egidio, buonasera a te, ai nostri telespettatori, al nostro pubblico in studio. Sì, parliamo della situazione Covid nella regione Lazio. Sì, i dati non sono confortanti perché la curva tende ad aumentare. Infatti oggi nel Lazio sono 4.636 nuovi casi e 3 decessi. Aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Fortunatamente calano i decessi. Vediamo brevemente le diverse province. Roma e provincia, 3.734 nuovi casi e 3 decessi. Mentre nella provincia di Latina sono 382 i nuovi casi. Andiamo avanti con la provincia di Frosinone, 316 i casi, mentre nella provincia di Viterbo sono 143 i nuovi casi. A Rieti e provincia invece 61 i casi. A tale riguardo interviene infatti il sottosegretario alla salute, Sileri. La pandemia dice di Covid non è finita e un'ondata estiva che credo sarà anche autolimitante. Già iniziata in altri paesi, spiega, altri paesi europei e ora anche in Italia. Ma che non va vista né con paura né con ossessione, sottolinea il sottosegretario. Si tratta di una variante più diffusa ma che non sta creando problemi agli ospedali. Ma soprattutto Sileri evidenza che in ogni caso ha osservato, dovremo capire a settembre e ottobre, cosa fare anche in relazione ai vaccini che avremo a disposizione. Ma parliamo sempre di Covid, in modo particolare questa volta di mascherine, perché da oggi le mascherine saranno raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri, palazzetti dello sport e agli esami di maturità. Resta invece l'obbligo sui mezzi di trasporto con la probabile esclusione dei voli e nei presidi sanitari, compresi le RSA. Questo è quanto avviene da oggi riguardo alle mascherine. A te, Giglio. Grazie, grazie a Maia Bottiglia. Non sono più obbligatorie, però la prudenza c'è. Certo, quello che dice il sottosegretario alla salute, quello che ha detto Maia Bottiglia, insomma un po' ci preoccupa perché dice siamo nell'ondata estiva, quindi quest'estate avremo un'ondata di Covid causata da queste varianti, la 4 e la 5. Quindi è vero che c'è il caldo, però la prudenza ci deve essere e poi vedremo cosa accadrà in effetti con l'autunno. Andiamo sulla stretta attualità, le immagini terribili che ci hanno accompagnato tutta la notte e questa mattina. Ma la grotta, vi do subito le ultime notizie, Maia vi dirà ovviamente altre notizie. Andiamo a vedere con Gianluca Pilò le immagini che hanno caratterizzato la serata di ieri, ma anche la nottata e la mattinata di oggi. Ma la grotta al centro di tante polemiche in passato, ma la grotta al centro di inchieste giudiziarie, ma la grotta chiusa dopo le proteste decennale da parte dei residenti, ma la grotta al centro di scontri politici, ma ma la grotta anche al centro di tanti misteri. Queste sono le scene che si sono presentate ieri nel tardo pomeriggio, nella notte, l'incendio devastante, il fumo nero, la preoccupazione per quanto riguarda l'inquinamento, la diossina e soprattutto il fuggi-fuggi generale. Insomma, la situazione è stata una situazione molto delicata e drammatica, che è andata avanti per tutta la notte scorsa, con 70 uomini dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato ininterrottamente, squadre arrivate da ogni dove, dobbiamo dire. Vigili del Fuoco che hanno fatto un lavoro straordinario, un lavoro che non si è concluso, perché dobbiamo dire che non è che l'incendio è finito, assolutamente no, viene tenuto sotto controllo, oltre agli accertamenti che sono di rito, insomma, le temperature elevate non aiutano. Tra l'altro c'è anche il pericolo nel Lazio, ma quello lo dirà poi Maia, ci aggiornerà sui consorzi che hanno dato l'allarme, perché se la situazione non migliora nella nostra regione, è una cosa incredibile, ma vero, forse a luglio avremo l'acqua razionata. Va bene, parlerà Maia che ha le ultimissime, per quanto riguarda i consorzi di bonifica. Queste immagini, dicevo, ci hanno accompagnato per tutta la notte, e ci hanno dato ovviamente tanta, tanta preoccupazione. È chiaro che Malagrotta rappresenta per Roma, ma per il Lazio adesso, con questo incendio, un problema enorme, soprattutto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, soprattutto perché siamo in piena estate, soprattutto perché ci sono difficoltà nella raccolta dei rifiuti. La Capitale non vive un momento da questo punto di vista felice, c'è tante difficoltà, come del resto non lo vivono altre città, come per esempio Latina, dove la difficoltà per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Ci sono dei problemi. Intanto però vi faccio vedere, oggi Gualtieri è riferito anche in Campidoglio, ma intanto vi faccio vedere questa dichiarazione di Gualtieri, Gualtieri, subito dopo il sopralluogo, queste sue dichiarazioni, e poi Maia ci aggiornerà, invece ci riepilogherà, quanto ha detto Gualtieri oggi, in Campidoglio, perché il caso di Malagrotta, che preoccupa tanto i romani, non riguarda solo i romani, riguarda tutta la regione, tutta la regione Lazio, e tra poco vi dirò perché. Ma sentiamo Gualtieri dopo il sopralluogo. Vediamo. Fortunatamente, grazie al lavoro straordinato dei vigili del fuoco, l'incendio ora è sotto controllo e si stanno ultimando le operazioni di spegnimento completo, che richiederanno ancora un po', ma senz'altro si può dire che è stato evitato un vero e proprio disastro ambientale. Naturalmente abbiamo subito preso un provvedimento per tutela della salute dei cittadini, con un'ordinanza che ha chiuso le scuole, gli asili, e ha dato una serie di prescrizioni e l'ARPA e l'ASA stanno costantemente monitorando la qualità dell'aria. Ma si può dire da questo punto di vista che la situazione migliorerà perché l'incendio è stato messo sotto controllo da vigili del fuoco. C'è l'altro aspetto che è quello della gestione del flusso di rifiuti, adesso che un PMB così importante è bloccato e stiamo lavorando a grande intensità per trovare immediatamente i sbocchi alternati. Questo era il sindaco di Roma Gualtieri dopo il sopralluogo. Ci sono le prescrizioni, bisogna stare attenti a mangiare, eccetera. Mai adesso ci ricorderà tutto quello che, come del resto anticipato, il sindaco di Roma Gualtieri che vedete in queste immagini quando si è recato a fare il sopralluogo per l'appunto a Malagrotta accompagnato dai vertici dei vigili del fuoco. Dicevo, non è un problema solo Roma, Roma e i Romani, un problema che riguarda tutta la regione perché ora si apre una situazione di grande incertezza. Il sindaco di Roma ha detto userò i poteri da commissario, ma insomma, intanto, Maia, le prescrizioni, le scuole chiuse, attenzione a quello che si mangia, se ci ricordi quella che è stata l'ordinanza. Il primo cittadino, infatti il titolare del Campidoglio, ha disposto la sospensione delle attività educativo didattiche e di quelle ludico, ricreative, sportive, dei servizi educativi e dell'infanzia, compresi i centri estivi pubblici e privati. È stato inoltre vietato il consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell'area individuata ed sono stati disposti il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile, oltre a quello di utilizzare foraggi e cereali raccolti in un raggio di 6 km. Resta la raccomandazione, circolata già nelle ore precedenti, di continuare a tenere comunque chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti. Questo è quanto viene indicato all'interno dell'ordinanza emanata oggi dal primo cittadino, Gualtieri. Allora, questo per quanto riguarda quelle che sono l'ordinanza, quindi bisogna fare attenzione perché c'è anche un problema che riguarda la salute, l'alarme di ossina. Insomma, l'ARPA domani farà altre comunicazioni, quindi l'ARPA ci darà domani notizie aggiornate sulla qualità dell'aria. Però il sindaco di Roma, poi oggi in Campidoglio, Maia, ha aggiunto anche altro, ha parlato anche di altro. Esatto, esatto. Ha evidenziato che questo ennesimo incidente rende ancora più evidente quello che, diciamo da tempo, hai spiegato. È fondamentale, indispensabile e urgente superare l'attuale situazione di insufficienza di impianti e precarietà dei sbocchi che affligge Roma. Il messaggio che vuole rivolgere alla città è semplice e chiaro. Quanto accaduto non lo fermerà e anzi ci rafforza, ha detto, ancora di più nella nostra determinazione di dotare Roma degli impianti di cui ha bisogno, tra cui due bidogestori anaerobici e un termovalorizzatore di nuova generazione e altri impianti necessari a chiudere il ciclo dei rifiuti all'insegna della sostenibilità e della legalità e della trasparenza. Il sindaco ha promesso di utilizzare al più presto i poteri commissariali che il governo gli ha conferito con il decreto aiuti circa un mese fa. Sono al lavoro per realizzare il nuovo impianto per dare maggior aiuti alla città di Roma, ma non solo, anche per quanto riguarda tutta la regione Lazio. A proposito di questo, Maia, la soluzione imminente si parla della città di Aprilia per ovviare a questo problema. È così? Qualchiera ha detto che la soluzione... Adesso c'è l'emergenza. Come facciamo questi rifiuti? È stata individuata a Aprilia? Esatto, l'ha anticipato proprio il primo cittadino di Roma che ha anticipato che il Rida di Aprilia ha già dato disponibilità positive per quantità importanti di rifiuti da trattare. Infatti contiamo di recuperare così con la riapertura del TMB1 quanto perso nel TM2 di Malagrotta. Quindi un aiuto arriva direttamente dalla Rida di Aprilia. Quindi Aprilia in soccorso di Roma, dei romani, insomma, sarà la Rida di Aprilia ad accogliere questi rifiuti. Abbiamo dato anche questo aggiornamento in diretta. Ricordiamo comunque, Giglio, che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio. Al momento, infatti, i magistrati di Piazzale Clodio procedono per il reato di incendio colposo a carico di ignoti. hanno effettuato proprio un sopralluogo oggi all'interno dell'impianto a Malagrotta e appunto è stato aperto un fascicolo. Una prima informativa è stata già consegnata in procura dai carabinieri. Bene, importante, insomma, anche perché bisogna fare luce. Sono incendi davvero, tra virgolette, molto strani. Molti dicono c'è l'autocombustione. Vabbè, c'è quello. Bisogna indagare, bisogna fare luce. Perché non è normale l'incendio di Malagrotta. Poi c'è stato l'altro incendio... Insomma, non sono cose proprio normali. È giusto che si vada a fondo e che si faccia chiarezza e che la Procura, ovviamente, indaghi per fare chiarezza. A proposito di incendi, ci sono stati altri incendi oggi a Roma, un altro che aveva interessato la zona pontina, ma un incendio che aveva portato alla chiusura di una strada, la Montilepini, proprio nello svincolo di Sezze, che è uno svincolo cruciale. Siamo in provincia di Latina, quindi le due province, con quella strada chiusa, la vicenda che riguardava il collegamento con Frosinone dalla città di Latina. Insomma, ci sono stati dei problemi. Vi do la notizia dell'ultima ora, di qualche minuto fa. La strada era stata chiusa a Sezze per il controllo sui piloni. Bene, invece, la buona notizia, è che la strada verrà riaperta subito. Questa è una buona notizia, soprattutto per i lavoratori, per le migliaia di lavoratori che ogni giorno transitano per raggiungere Frosinone, oppure da Frosinone per arrivare nella città di Latina. Spesso si trovano in quello svincolo. Parliamo anche dei mezzi pesanti che a volte, ovviamente, sono costretti a fare quelle strade. La strada riapre. Grazie al grande lavoro della Prefettura di Latina, scrive in questo momento il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, grazie al lavoro della Prefettura, della Polizia Stradale, dell'ANAS, della Polizia Locale di Sezze e delle forze dell'Ordine che hanno controllato il flusso viario con grandi difficoltà. I vertici dell'ANAS hanno stabilito la riapertura della 156 dei Monti e Lepini, una riapertura che avverrà tra poco, quindi credo nella prossima ora, nelle prossime ore, quindi è imminente. Il sindaco di Sezze, tra l'altro, ha ringraziato la Polizia Stradale che è stata molto vicina all'amministrazione perché in effetti si è scatenato un po' il caos. E anche quello era stato causato da un incendio probabilmente doloso che aveva investito i piloni della Monti Lepini proprio a Sezze in quello svincolo e sono state necessarie, da questo punto di vista, le analisi, gli accertamenti dei tecnici dell'ANAS perché quella sera, durante l'incendio, usciva del fumo nero proprio dai piloni. Però la situazione è stata monitorata, è tranquilla, si può transitare, verrà riaperta nelle prossime ore. Anche questo a causa del fuoco degli incendi. È inutile dire che le temperature sono elevate e continueranno ad essere elevate anche nei prossimi giorni in tutta la nostra regione, la regione Lazio, ma intanto arriva un altro allarme. Vi ho detto che questa sera in apertura di trasmissioni vi davamo le notizie, tutte le ultime notizie di strettissima attualità, arriva un altro allarme perché potrebbe verificarsi qualcosa di straordinario nella nostra regione a causa delle temperature elevate, a causa della mancanza di pioggia, della siccità. Cioè, a luglio potrebbe essere razionata l'acqua nella nostra regione, avete capito bene. L'allarme arriva dai consorsi, Maia, ci risci qualcosa su questo? Perché anche in questo caso la notizia è di oggi, no? Esatto, vi è allarme e siccità perché l'ultima precipitazione risale a quasi un mese, dati appunto che preoccupano considerato che siamo appena alla metà del mese di giugno. Non escluso che se entro i prossimi dieci giorni questo clima dovesse continuare, l'acqua potrebbe venire razionalizzata. La situazione non è delle migliori e a destare maggiore preoccupazione sono infatti il Tevere e la zona dei Castelli Romani dove il livello di acqua dei laghi è ai minimi storici. Purtroppo la situazione è pressoché simile anche nella capitale. L'ipotesi di un eventuale razionamento dell'acqua nel Lazio non è dunque appunto da escludere. L'allarme e siccità qualora si arrivasse ad un tale provvedimento si procederebbe in primo luogo alla diminuzione della potenza per cui a soffrire sarebbero le zone più lontane e poi ne soffrirebbero appunto il settore agricolo. L'allarme e siccità preoccupa la capitale e più in generale appunto tutta la regione Lazio. In particolare basti pensare che il lago di Bracciano riserva idrica di Roma è più basso di mezzo metro rispetto allo stesso periodo dell'anno. Una situazione maggiormente critica riguarda anche il lago di Nemi e quello di Albano. Quindi la situazione è davvero critica per quanto riguarda la siccità e diventerà ancora peggio o praticamente la situazione peggiorerà se entro pochi giorni, parliamo almeno di dieci giorni, non pioverà. Cioè incredibile, davvero, non è una battuta, dovremmo tutti concentrarci e fare la danza della pioggia, non la danza del dai dai, proprio la danza della pioggia perché altrimenti sarà un problema serio, come avete sentito da quello che dicono i consorzi che ci ha detto Maya. Insomma, vi abbiamo aggiornato sulla stretta attualità, vi abbiamo aggiornati su tutto questo che è accaduto nelle ultime ore, un pensiero particolare, la grande preoccupazione ancora per Malagrotta, quello che è successo a Malagrotta, guardate, è grave, speriamo che si faccia luce, ma soprattutto speriamo che domani l'ARPA ci dia notizie buone, che non ci siano livelli alti di inquinamento, parliamo della diossina, che si possa tornare a mangiare, insomma le scuole sono state chiuse, tutta quella zona, speriamo bene, ci auguriamo domani di avere buone notizie, come sempre con i nostri telegiornali sarete aggiornati in tempo reale in tutte le nostre edizioni. Allora chiudiamo questa pagina, devo dare la linea alla regia e tra poco le inchieste, questo ulteriore colpo al clan di Silvio Ciarelli, in particolare ai Ciarelli, gli viene contestata l'associazione mafiosa, è un passo in avanti dei magistrati della direzione istituzionale antimafia, grazie anche al racconto dei pentiti. Che vuol dire l'associazione mafiosa? Vuol dire il carcere duro e già si parla di nuove possibilità di avere un altro pentito del clan Ciarelli. Attenzione, perché se arrivasse un altro collaboratore, insomma, sarebbe ancora di più chiara, la situazione verrebbe cristallizzata. Dopo la pubblicità, chi sono gli arrestati, le accuse, gli episodi, parleremo con gli ospiti in studio, commenteremo, ma soprattutto vedrete e sentirete i verbali di quello che è il primo pentito del clan Ciarelli, quell'Andrea Pradissitto che ha aperto anche dei fronti nuovi che fanno capire, hanno fatto capire anche alla magistratura sul perché di tante cose. Ovviamente sono verbali pubblici questi, ce ne sono altri che sono secretati come degli altri pentiti, penso ovviamente a Maurizio Zuppardo, molti sono secretati, ma questo, leggendo questa ordinanza e questi verbali ci fanno capire che, attenzione, perché anche nei prossimi mesi ormai, insomma, l'antimafia punta ad estirpare tutto, nel Lazio, soprattutto in alcune zone, con inchieste a raffica. Sentiremo anche il capo della squadra mobile, Giuseppe Pontecorvo, ma tutto questo dopo la pubblicità, restate incollati perché sentirete dai verbali di Pradissitto cose che forse nemmeno nessuno, almeno noi, almeno che facciamo questo lavoro, insomma, non avevamo immaginato certe cose sui ciarelli e onestamente, nemmeno pensate, lo racconta Pradissitto dopo la pubblicità. Centro di Produzione Centro di Produzione Televisiva e Cinematografica, Gruppo Sciscione, in via Giacomo Peroni 130 a Roma, zona Tecnopolo Tiburtino, uscita 13 o 14 del grande raccordo anulare. Cinque teatri di diversa metratura, da 100 metri quadri a 1000 metri quadri, con un'altezza massima di 9 metri, ognuno con un parco luci completo e di ultima generazione, tre regie Full HD con possibilità di 4K, otto postazioni di montaggio, sala audio insonorizzata per voice-over o doppiaggi, otto, tra camerini e sale trucco, ampio parcheggio per la sosta di mezzi di produzione cinematografica e televisiva, free Wi-Fi, possibilità di utilizzo uffici durante la produzione, servizio di receptionist, talent show, reality, talk show, film e serie TV, Centro di Produzione Televisiva e Cinematografica Gruppo Sciscione, professionalità, grandi spazi, innovazione, comodità e cortesia, a tua disposizione. Alla Resingham facciamo materacchi su misura in soli 30 minuti, analergici, sfoderabili e lavabili, non ci si crede, ah là, ma che stai a dormire? svegliete, che devo lavorare! C'era un sogno che era Roma, sarà realizzato. Vivi un giorno da antico romano. scopri Roma World, il nuovo parco a tema di Cinecittà World. Roma World, che la storia abbia inizio. Alla Resingham facciamo materacchi su misura in soli 30 minuti. Stiamo in via TV T-N-A tutto attaccato. wellness suite a fondi è un centro specializzato in rimodellamento fisico naturale senza l'utilizzo di tecnologie invasive. Il tempio della bellezza del benessere a 360 gradi con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, ducce emozionali e aree a relax con tisanneria. wellness suite centro di estetica clinica integrata. A fondi in via Luigi Punzi 50 Nasce la prima medical spa della provincia di Latina centro di medicina estetica e performance Wellness Medical Center Scor servizi ristrutturazione completa del vostro bagno personalizzata e curata da artigiani trasformazione della vasca in doccia per disabili e non vasca con sportello adatta a chi ha problemi motori e ai disabili a tutti coloro che sottoscrivono un impegno con noi solo per questo mese in omaggio un produttore di acqua pura da bere da sotto l'avello chiama per informazioni il 328 68 47 883 Alla Resingham facciamo materassi su misura in soli 30 minuti li avvolgiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina così andiamo anche a risparmiare sui soldi del trasporto bravo grazie voi venite quando volete noi intanto ci alleniamo un panorama fantastico per una serata magica questo priezze ciccariello così fresco e frizzante è il compagno ideale per iniziare nel modo giusto una serata da sogno preferisci rosso? sì purché sia il saraccino ciccariello ottima scelta vini ciccariello gocce di gusto inimitabili alla racing facciamo ma ve l'assi su misura in soli 30 minuti non ci credi? neanche io bravo grazie ricordatevi ricordatevi di fare la nuova sintonia dei canali sul vostro televisore gold tv passa dal canale 17 al canale 11 lazio tv passa dal canale 12 al canale 13 roma tv prenderà il canale 82 tele regione prenderà il canale 118 la nuova sintonia deve essere effettuata tra il 14 e il 17 giugno per rome provincia latina e provincia e prosinone provincia scarica la nuova applicazione di lazio tv sul tuo smartphone apple o android seguici in diretta da tutto il mondo scarica adesso l'app di lazio tv è gratuita e lo sarà sempre inizia con un click bene torniamo in studio i nostri ospiti tra poco ci raggiungerà Marco Cusumano il messaggero intanto Bernardo Bassoli latina tu buonasera a Bernardo Bassoli che torna a trovarci più tardi avremo Andrea Stabile parleremo di un'altra pagina inquietante della storia pontina ma una storia pontina che ha fatto e ha scalato anche a proposito della vendita dei libri con il primo libro anche le classifiche perché insomma la storia molti hanno letto di questa storia del governo di centrodestra latina delle vicende che hanno riguardato l'ex sindaco Vincenzo Zaccheo l'ex vice sindaco Galardo che guarda caso uno di questi nomi Galardo rientra nella vicenda dei Cirelli guardate la casualità credetemi è una casualità questa è una casualità perché il libro verrà presentato domani vi ricordo il libro verrà presentato domani da Emilio Orlando a Latina all'Evergreen alle ore 19 ma è una casualità che venga presentato qualche giorno dopo il blitz sui Cirelli è davvero una casualità da questo punto di vista allora perché parliamo di questa inchiesta importante della direzione estretuale antimafia di Roma Piazzale Clodio Spinelli Fasanelli i due sostituti procuratori perché questa inchiesta è importante innanzitutto viene contestata l'associazione mafiosa i Cirelli questo vuol dire il carcere duro apre tutto un altro scenario vengono chiariti tanti episodi le estorsioni eccetera viene chiarito a tante cose ma soprattutto parla quello che è il primo collaboratore di giustizia che arriva dal clan Cirelli per aver vissuto con loro per aver vissuto con loro anche in carcere dice cose importanti molte sono coperte da segreto ma va oltre è aperto anche un altro scenario pradissito parlando della camorra e udite udite della mafia siciliana quella che potrebbe essere vicina come ha scritto Bernardo Bassoli ieri vicino a Matteo Messina Denaro poi capirete perché dai verbali che vi farò sentire e vedere il blitz è scattato da parte della polizia di stato c'è stato nella giornata di ieri giornata di mercoledì dove tanti uomini sono andati a consegnare queste ordinanze di custodia cautelare ben 15 molti di questi personaggi erano già in carcere sia dei componenti del clanciarelli di Silvio quindi hanno ricevuto questa nuova ordinanza e questa nuova ordinanza che li riguarda non fa altro che aggravare la loro posizione cioè oltre alle accuse che già hanno ai processi se ne aggiungono a questi personaggi altre accuse quindi avranno altri processi si allungano per loro i tempi a dismisura e probabilmente si allungheranno ancora di più con le altre dichiarazioni e i riscontri perché per quanto riguarda i collaboratori di giustizia ovviamente vengono sempre effettuati tutti i riscontri qual è l'altra notizia che circola ma che non è confermata dagli ambienti di nessun tipo forse un nuovo collaboratore di giustizia cioè allora quello che ha fatto la direzione estrettuale antimafia e nel caso specifico la polizia di stato nel caso specifico la questura di latina in questi anni con queste indagini non solo sono importanti perché hanno portato a risultati che poi sono stati certificati anche in sede processuale ma con riconoscimento dell'associazione mafiosa hanno blindato al carcere duro alcuni di questi personaggi che alla fine si sono pentiti hanno preferito fare un'altra vita e collaborare con lo stato questa è stata la chiave di lettura strategica fondamentale la svolta come dobbiamo dire che in questo caso ho avuto dei magistrati che hanno seguito dall'inizio da anni secondo queste vicende come la dottoressa Luigia Spinelli come il dottor Fasanelli ma è una fase cruciale perché l'antimafia sta riuscendo praticamente ad annientare i clan ma soprattutto a porre un forte argine a questa criminalità non solo quella dei Rom ma adesso parleremo come già è accaduto in passato Camorra Andrangheta soprattutto la mafia perché dalla mafia parermitana non se ne parla mai Pradissitto ne parla poi vedrete perché chi sono gli arrestati o meglio chi sono i destinatari di questa nuova di questa nuova ordinanza di custodia cautelare le possiamo vedere con la grafica e poi andremo a sentire il capo della squadra mobile il dottor Ponte Corvo eccoli qua allora Manuel Agresti 37 anni Matteo Ciaravino 33 anni Carmene Ciarelli detto porchettone 56 anni Ferdinando Ciarelli detto macù 40 anni Pasquale Ciarelli 38 anni Anton Giorgio Ciarelli 42 anni Ferdinando Ciarelli detto furto 59 anni Roberto Ciarelli 26 anni Gianluca Di Silvio 26 anni andando avanti c'è anche una persona destinataria di questa ordinanza che però è deceduto è morto in carcere come del resto avevamo già raccontato tempo fa che è Samuele Di Silvio poi Costantino Di Silvio detto patatone 40 anni in carcere per l'omicidio Buonamano Francesco Iannarilli 35 anni Rosaria Di Silvio 57 anni Maria Grazia Di Silvio 58 anni Valentina Travali 35 anni ai domiciliari Ferdinando Ciarelli di 24 anni ha parlato il capo della squadra mobile subito dopo il blitz il dottor Giuseppe Pontecorvo e allora prima di entrare nel dettaglio dei commenti delle carte dei verbali sentiamo il dirigente della squadra mobile della questura di Latina sentiamo Dottor Pontecorvo blitz della Polizia di Stato inchiesta della direzione istrettuale antimafia arriva un nuovo colpo ai clan in questo caso il clan dei Cirelli abbiamo dato esecuzione a 15 ordinanze di custodia cautelare in collaborazione con il nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria nei confronti di soggetti che sono a vario titolo ritenuti indiziati di aver commesso diverse tipologie di reato tutte aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa si tratta di un'indagine che è appunto coordinata dalla direzione istrettuale antimafia dai magistrati Luigi Spinelli e Corrado Fasanelli oltre alla dottoressa Gian Maria applicata dalla procura di Latina ed è un'indagine che si è sviluppata attraverso attività di intercettazioni attraverso l'ascolto di numerose vittime di estorsione che nel loro complesso ci hanno permesso di riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che in questa attività di indagine ricostruiscono uno spaccato di storia criminale di Latina e provincia si parla ovviamente di Latina della provincia di Latina in particolar modo di numerose estorsioni no dottor Ponte Corpo sì almeno sotto il profilo indiziario lo stato detentivo che è interessato le famiglie di Silvio e Ciarelli sembra non aver indebolito la capacità di intimidazione di queste famiglie dei Ciarelli in modo particolare che hanno continuato dal carcere a formulare richieste estorsive nei confronti di imprenditori commercianti cittadini utilizzando diversi profili social social network e al tempo stesso all'interno del carcere imponendo una sorta di protezione per questo servizio pretendendo il pagamento di una somma di denaro contante ecco la cosa importante di questa operazione che stronca anche quello che sono le attività tra virgolette illecite all'interno del carcere un carcere che per alcuni di questi personaggi era diventato ovviamente la base la stanza dei bottoni da dove far partire gli ordini è importante su questo è uno spaccato inedito quello che almeno riusciamo a ipotizzare allo stato delle indagini che naturalmente dovrà essere oggetto di vaglio a residuo del processo un'altra cosa importante anche in questa inchiesta è stato utile e soprattutto decisivo insomma all'apporto dei collaboratori di giustizia di giustizia rappresentano un fondamento un architrave di ogni indagine antimafia insieme alle attività di intercettazione sono i due pilassi su cui si fondano le indagini prima e poi i processi un'altra cosa importante le denunce come era accaduto indagine sempre della polizia di stato con i casa monica sul litorale pontino poi sono arrivate le denunce dei ristoratori e le indagini è stata un'indagine lampo l'importanza della denuncia ma soprattutto imprenditori la gente denuncia denuncia e questo è un passaggio importante questo credo sia il messaggio più importante che in generale voglio voglio rivolgere alla città di Latina e ai cittadini di Latina l'importanza a vincere la paura e trovare il coraggio di denunciare per essere veramente liberi di credere nelle istituzioni in tutte le istituzioni anche dalla magistratura delle forze dell'ordine naturalmente con l'occasione permetteremi di ringraziare il lavoro svolto dagli uomini e delle donne della squadra mobile che con orgoglio rappresentano ormai da più di tre anni ecco io penso che il loro lavoro meriti la fiducia di queste città e dei suoi cittadini e questo era il capo della squadra mobile ma intanto a proposito è una questione adesso è una notizia politica ufficiale ma ha a che fare con le inchieste delle quali ci siamo occupati parliamo di ansia e Nettuno perché salta definitivamente il comune di Nettuno maia perché? Questa è dell'ultima ora Sì Nettuno il sindaco Alessandro Coppola è decaduto dopo che il rendiconto della gestione 2021 non è stato approvato in consiglio comunale comportando così l'automatica caduta dell'amministrazione in carica dal 2019 il sindaco si era dimesso il 26 maggio scorso anche sulla scia delle polemiche innestate dall'inchiesta che a febbraio scorso ha portato all'arresto di 65 persone le dimissioni del sindaco sono così diventate oggi definitive grazie a Maia quindi diciamo che Nettuno arriverà il commissario ma è in corso il lavoro della commissione d'accesso diciamo che c'è stato un fuggi fuggi generale della maggioranza che ha abbandonato il sindaco di Nettuno Coppola se poi arriverà lo scioglimento se ne sono andati prima però adesso vedremo cosa accadrà questa notizia dell'ultima ora ve l'abbiamo data anche questa in diretta i sciarelli di Silvio allora Bernardo perché io la definisco molto importante questa inchiesta perché è importante soprattutto alla luce delle nuove dichiarazioni insomma questa della direzione istrettuale antimafia che va a fotografare una situazione e soprattutto a chiarire tanti fatti che erano abbastanza inquietanti e per certi versi inediti no? Ma è importante anche se da evidenziare che non ha avuto la ribalta ad esempio degli organi di informazione nazionale a differenza di altre inchieste che invece da Latina sono sbarcate anche sui network nazionali in realtà questa è un'inchiesta molto importante a parte perché chiude un percorso un percorso investigativo giudiziario e anche direi sociale per la città dal 2018 ossia dall'inchiesta Alba Pontina noi possiamo dire che i maggiori clan di origine Roma di questa città hanno o condanne o processi in corso o indagini in cui è contestato il 416 bis l'associazione mafiosa o comunque l'aggravante mafiosa per alcune fatti specie di reato questa è una cosa molto importante perché dobbiamo pensare da cittadini di Latina che soltanto dieci anni fa questa cosa era impensabile è chiaro che poi magari viene fuori il fenomeno che adesso dice sì ma io lo sapevo sì è vero magari noi lo sapevamo però è importante che lo Stato adesso contesta a questi clan rom l'associazione mafiosa o comunque l'aggravante mafiosa perché nei fatti anche se dovessero assolverli e comunque ci sono già delle sentenze passate in giudicato per Alba Fontina e nei fatti questa è mafia e chiunque di noi qui a Latina sa che avere avuto a che fare o avere a che fare con queste famiglie significava entrare in una sorta di sintassi di stilemi proprio mafiosi cioè se tu non accetti ciò che dico io io poi vengo a punirti e addirittura a minacciare anche i congiunti e lo vediamo anche in alcune estorsioni che si evincono da quest'ultima indagine in cui sono stati colpiti addirittura i genitori di qualcuno estorto o comunque minacciato professionisti come avvocati professionisti commercianti come gioiellieri assolutamente commercianti gioiellieri avvocati imprenditori imprenditori la cosa più inquietante è che ci sono episodi di persone imprenditori in questo caso estorti più di dieci anni fa i cui casi sono rientrati nel famoso processo Caronte che è il primo processo importante che ha messo alla sbarra i ciarelli di Silvio dopo dieci anni era l'indagine dell'attuale questore Cristiano Tatarelli e c'era anche il PM Spinelli peraltro la dottoressa Spinelli sì ecco qualcuno di quegli imprenditori dopo dieci anni quando Carmine detto porchettone o addirittura adesso scopriamo il professore di diritto addirittura tra di loro lo chiamavano anche il professore di diritto perché probabilmente c'è Pugliese uno dei collaboratori di giustizia che dice che è un uomo colto ma spietato diciamo che a leggere i messaggi che mandava non è proprio coltissimo nel senso che qualche strafalcione di italiano lo faceva però al netto delle battute quest'uomo uscito dal carcere dopo undici anni per le condanne di Caronte si permetteva di andare da quelli che aveva già estorto e per cui era stato condannato e a chiedere altri soldi e lo faceva in maniera anche goffa se vogliamo perché attraverso un profilo facebook facilmente reperibile non ricordiamo qual era il profilo facebook Purosangue Ciarelli Purosangue Ciarelli era questo profilo facebook in cui da lì partivano anche le minacce e la richiesta di denaro anche questo hanno scoperto gli uomini della squadra mobile personalmente lo conosco bene perché la famiglia Ciarelli è uno degli utenti più affezionati al blog Latina Tu perché vengono a commentare anche con frasi colorite e veniva anche Purosangue Ciarelli quindi diciamo che certo possiamo riderne però è anche vero che mettendosi nei panni di quell'imprenditore che dopo dieci anni si ritrova un messaggio del proprio aguzzino che gli dice dammi 250 mila euro ecco questa cosa è piuttosto insomma dovrebbe far riflettere è anche vero però la giustizia è arrivata e ha messo filo è arrivata l'importante è che si arrivi sì è arrivata con dei distinghi ma arriva sempre arriva in ritardo ma arriva arriva ma quello che diceva il vice questo raggiunto Pontecorvo è molto importante cioè bisogna denunciare bisogna iniziare a capire che non avere più paura di questi nomi no assolutamente assolutamente per questo non vale per te o per altre persone che queste cose le denunciano in televisione vale per i cittadini che vivono la vita di tutti i giorni ancora hanno paura di questi nomi è la verità questa è vera c'è ancora paura però anche in queste indagini ci sono alcuni che hanno denunciato pochi ma alcuni hanno denunciato e questo è importante perché aiuta poi le istituzioni a reagire e a intervenire e a bloccare questi questi fenomeni insomma altro fatto importante che vogliamo sottolineare durante queste indagini si è scoperto ovviamente quello che succedeva in carcere perché anche in carcere c'erano le istorzioni i ciarelli comandavano in carcere e dal carcere impartivano ordine per l'esterno ecco perché questa inchiesta è importante anche su questo fronte grazie anche alla collaborazione insomma della polizia penitenziaria perché va a stroncare anche quel sistema del quale si parla poco all'interno delle carcere perché dobbiamo dirlo no Bernardo certo ci sono diversi episodi poi li sentiremo insomma il clan ciarelli aveva il totale controllo del carcere di Latina e non solo del carcere di Latina era riuscito addirittura ci sono episodi in cui c'è uno dei ciarelli che riesce a impartire un ordine per cui alcuni suoi affiliati o sodali o amici li fa trasferire al carcere di Pescara ecco perché è stato molto importante in questa indagine l'intervento anche del nucleo investigativo della polizia penitenziaria la polizia penitenziaria e loro puntano sul carcere non è un particolare da poco attenzione perché nel carcere e questo ce lo insegna la storia criminale del nostro paese e non solo del nostro paese ma è nel carcere che nascono le nuove alleanze se non viene chiaramente gestito bene nuove alleanze nuove relazioni che poi si sostanziano quando questi personaggi escono fuori ecco perché non posso saperlo chiaramente credo che ad oggi nessuno lo sa nonostante come tu hai detto il partissito ha riempito parecchi verbali che probabilmente ancora non sono conosciuti e c'è solo una piccola parte sì ma è probabile che questo legame poi probabilmente ne parleremo ma questo legame con cosa nostra poi ne parleremo è probabile che forse sia nato in carcere e anche quell'altra vicenda che riguarda i casalesi allora tu hai introdotto abbiamo detto perché è importante questa inchiesta perché alla fine c'è la vicenda che riguarda le carceri gli ordini che venivano impartiti dal carcere il potere nelle carceri il controllo le istorsioni non solo ai commercianti ai professionisti all'esterno del carcere ma le istorsioni che avvenivano anche all'interno dello stesso carcere nei confronti di altri detenuti ritenuti anche benestanti per certi versi insomma ha fotografato ha certificato ha approvato tutto questo l'inchiesta della direzione settore antimafia le indagini degli uomini della squadra mobile della questura di Latina la figura di Pradissitto chi è Andrea Pradissitto Pradissitto è legato ai sciarelli è legato ai sciarelli si sposa fa parte del gruppo dei sciarelli diventa un personaggio che all'interno della famiglia insomma sa tante cose comunque è stato di fatto che a un certo punto Pradissitto decide di collaborare perché collabora perché approfittando di un periodo anche di semi libertà poi arriva l'altra mazzata dell'inchiesta torna in carcere dice ma insomma io voglio fare un'altra vita io e la mia famiglia e decide di collaborare dice delle cose importanti molte sono riportate in questa ordinanza di custodia cautelare altre cose non le conosciamo sono molto curioso anche di capire sia di Zuppardo ma sia dello stesso Pradissitto le vicende che riguardano la politica perché a un certo punto i sciarelli erano legati pure al mondo politico questa roba non ce n'è traccia ma Pradissitto sa molto ricordiamo che in un'inchiesta che riguardava i sciarelli finì l'ex vice sindaco Maurizio Galardo sulla vicenda delle pensioni insomma c'è ancora c'è ancora un fronte Zuppardo avrà parlato di questo non lo sappiamo sarà interessante anche Zuppardo quello che avrà detto quindi ci sono tanti fronti però è giusto per ricostruire e fare e fare piena luce a un certo punto tra i tanti verbali stasera vedremo tanto Pradissitto parla delle figure di Carmine e di Ferdinando e di Ferdinando e di Cirelli quelli che lui considera insomma come si può dire Bernardo due big tra Carmine e Ferdinando due big e parla di questi personaggi nei verbali allora fate molto attenzione alzate il volume del vostro televisore e leggerete il verbale la carta vera non scritta la carta vera e alzate il volume perché adesso iniziamo da Pradissitto che parla di Carmine Cirelli e il contributo numero cinquantuno cinque uno per la regia e dice delle cose importanti legate alla figura di Carmine Cirelli sentite anche il neocolaboratore Pradissitto Andrea nel corso dell'interrogatorio reso il 5 luglio 2021 ha tratteggiato la caratura criminale di Carmine Cirelli riferendo nella foto numero 2 riconosco Carmine Cirelli fratello di mio suocero la fortuna di Carmine Cirelli dal 2002 in poi è stata incontrare Pietro Canori al quale prestò 300 mila euro in cambio di 50 mila euro al mese per sei mesi Carmine aveva prestato dei soldi al figlioccio di Pietro Canori Luca Finocchiaro circa 10 mila euro il prestito era lievitato a 30 mila euro Finocchiaro si nascose perché non riusciva a pagare e Carmine aveva appuntato al suo ristorante nel senso che voleva appropriarsene era intervenuto anche Ciaccià ma non riuscì a frenare le pretese di Carmine Finocchiaro chiese l'intervento di Pietro Canori che portò a Carmine 100 mila euro in contanti per pagare il debito di Finocchiaro poi Carmine prestò 300 mila euro a Canori e Canori investì i soldi in cocaina arrivavano macchine piene di cocaina all'officina che sta vicino alla palestra di Mirco Parisi e che era ed è di Mirco Parisi lì smontavano la macchina e partecipava anche Luca Finocchiaro che era l'erede designato per succedere a Pietro Canori Carmine Cerelli è sempre stato considerato dalla popolazione di Latina il capo del clan Cerelli ma in realtà non è così in realtà il capo del clan è sempre stato mio suocero qui parla di Carmine Cerelli aggiunge dei personaggi parla dei personaggi Canori Finocchiaro parla dei personaggi tutti i livelli alti cocaina go go fiumi come si dice lo sai come la chiamano la neve tutti a sciare quindi grande mercato però qui parliamo di Carmine Cerelli poi Pradissitto parla anche di Ferdinando Cerelli in un altro verbale e dice delle altre cose interessanti adesso commenteremo prima che ho fatto sentire cosa dice su Carmine ora cosa dice su Ferdinando Cerelli perché su Ferdinando Cerelli in questo verbale aggiunge delle cose e qui iniziamo con le cose inquietanti molto inquietanti è il contributo numero 54 5-4 per la regia Pradissitto parla di Ferdinando Cerelli e di un signore figura inquietante di nome Lorenzo sentite anche il neocolaboratore Pradissitto Andrea nel corso dell'interrogatorio reso il 5 luglio 2021 ha tratteggiato la caratura criminale di Ferdinando Cerelli riferendo nella foto 4 riconosco mio suocero il vero fondatore e capo di questo clan la persona più temuta e pericolosa sia all'interno del clan che anche all'esterno lui aveva un'alleanza con una persona di nome Lorenzo di cui in questo momento non ricordo il cognome ma che era di Roma e aveva la possibilità di disporre di una clinica sulla Portuense ma non so se la clinica fosse sua era molto legato con persone importanti a livello istituzionale di Roma tanto che mio suocero una volta venne fermato all'aeroporto a Roma non ricordo se a Fiumicino a Ciampino e lo trovarono con uno zainetto con 250 mila euro venne rilasciato la sera stessa e il mio suocero aveva contattato questo Lorenzo per avere aiuto allora Pradissitto in questi primi verbali ricostruisce come diceva Bernardo il numero uno e il numero due cioè la figura di Carmine Ciarelli Ferdinando Ciarelli al vertice sono alcuni passaggi però vi danno l'idea di quanto ha raccontato Pradissitto che descrive facendo nome e cognome anche di altri ricostruisce episodi cose che poi ovviamente la direzione settore antimafia i magistrati verificano adesso apriamo il fronte un po' più particolare e arriviamo poi agli altri verbali Lorenzo chi è sto Lorenzo? Lui lo definisce come un personaggio importante poi tornerà a parlare Pradissitto di questo Lorenzo personaggio vicino agli ambienti istituzionali capace di dare una mano a Ciarelli che viene fermato con 250 mila euro all'aeroporto se capitasse a me o se capitasse a Bernardo Bassoli ci sarebbero i braccialetti subito e ci porterebbero subito con i braccialetti in quest'ora Ciarelli non solo continua con questi 250 mila euro ma non gli fanno nulla chi è Lorenzo? Probabilmente Lorenzo è uno tu chi pensi e poi vedremo un'altra cosa su questo Lorenzo anche perché in effetti Pradissitto dice una cosa per molto tempo non si è indagato sui Ciarelli erano solo i di Silvio i Ciarelli sembra quasi fossero messi da parte non dico tutelati ma nascosti che dici di questo Lorenzo e di questa figura inquietante che dice il pentito? Ma quello che possiamo dire è quello che ci viene detto dal pentito dal collaboratore di giustizia Lui parla di alcune proposte che farebbe questo Lorenzo a Furt cioè a Ferdinando Ciarelli si parla anche di una cosa non so se ci vuoi arrivare poi la faccio sentire ancora più inquietante truccare i processi esatto come accadeva con la mafia arrivavano in Cassazione ciao ciao come era la canzone con le mani ciao ciao e finivano così esatto i Ciarelli provano questa carta però poi lo faccio sentire quello che racconti sì io poi mi riferivo anche a un altro aspetto che può essere inquietante poi è chiaro che ogni dichiarazione di un collaboratore di giustizia va riscontrata però è anche vero che pare dalle dichiarazioni di Pradissitto che questo Lorenzo a un certo punto propone a Ferdinando Ciarelli detto Furt che è il numero due o il numero uno del clan secondo il genero è il numero uno ma anche su questo ci sono un po' di dubbi perché in realtà quando scoppia la guerra criminale Pontina del 2010 non sparano a Ferdinando Furt ma sparano a Carmine Ciarelli proprio perché è quello riconosciuto come un simbolo di quel clan bene insomma questo Lorenzo a un certo punto chiede a Ferdinando Furt se sia disposto ad essere un referente un referente particolare per personaggi vicino o comunque addirittura dei servizi anche in questa inchiesta tornano i servizi segreti o meglio cosiddetti pezzi deviati dei servizi ma anche su questo insomma ci sono valerine di pensiero probabilmente non esistono i pezzi deviati non proprio fedelissimi esatto non proprio fedelissimi gli propongono un patto strano addirittura gli chiedono di dare a loro la pistola con cui è stato ucciso Massimiliano Moro in modo da fabbricare prove false e incriminare qualcuno è inquietante è molto inquietante perché magari sarà anche successo in passato non lo sappiamo però è inquietante quando io dico personaggi infedeli intendo questo che dovrebbero invece di far tra l'altro noi viviamo in un paese dove tra depistaggi ci sono uno dei depistaggi più grave della nostra storia è quello di Borsellino ricordiamo che per l'uccisione del magistrato Paolo Borsellino ci sono sette persone che si sono fatti vent'anni di carcere quindi questo aspetto di fabbricare prove per incriminare qualcuno si lega poi all'omicidio di Moro perché noi siamo nel 2022 e il processo per l'omicidio di Moro è iniziato da due mesi cioè sono passati dodici anni quindi qualcosa è successo è evidente che qualcosa è successo per quanto riguarda per fare un piccolo passo indietro su quei nomi che hai letto Finocchiaro Canori qui ritornano sempre per spiegare bene chi sono che cosa perché entrano in gioco Canori e Finocchiaro stanno ai ciarelli come Ciprian sta ai travali cioè che cosa fanno questi clan e questo vale da Aosta a Palermo nessuno di loro ha i contatti che hanno questi broker del narcotraffico con i cartelli sudamericani ricordiamoci che Luca Finocchiaro è stato arrestato nel 2020 a Santo Domingo in una mega operazione internazionale era latitante a Santo Domingo anzi o meglio era già in carcere a Santo Domingo lo hanno estradato stiamo parlando di personaggi che hanno contatti però non hanno la possibilità poi di vendere la neve come tu l'hai chiamata sui territori perché? perché ci sono i clan feroci che controllano i territori quando qualcuno del clan aggancia questi broker del narcotraffico è la sua fortuna e lo dice Pradissitto lo dice Pradissitto non ha torto perché Carmine Ciarelli aggancia Pietro Canori e svolta e svolta perché Pietro Canori addirittura è stato arrestato l'anno scorso per affari con una cosca sempre di cosa nostra quindi stiamo parlando di un personaggio che riesce di livello a livello criminale dal punto di vista criminale pensa che 15 anni fa tutti dicevano ma queste sono le cose dei giornali i film continua è arrivato Marco Cusumano tra poco lo vedremo vai vai purtroppo non sono cose dei giornali e purtroppo non sono soltanto questioni di strada non sono solo questioni di estorsioni di piccole estorsioni ma sono questioni di alleanze create sia con questi broker del narcotraffico e sia poi probabilmente ci arriveremo con l'aristocrazia addirittura di cosa nostra stiamo parlando di un piccolo poi vedremo vedremo qualcosa intanto è arrivato Marco Cusumano che saluto buona serata il messaggero abbiamo iniziato parlando ovviamente della vicenda delle indagini dell'importanza delle indagini ci stiamo concentrando ovviamente su quelli che sono i verbali di Pradissito e siamo partiti con Pradissito che definisce e che parla sia di Carmine Ciarelli e di Ferdinando Ciarelli citando Lorenzo e questi inquietanti contatti con personaggi dei servizi lui dice questo Lorenzo legato ai servizi segreti probabilmente a quegli agenti un po' infedeli che cercano altri allora prima di sentire anche il tuo parere faccio sentire un'altra parte di Pradissito che parla di questa fase inquietante di queste vicende inquietanti in cui Pradissito parla della possibilità di aggiustare i processi con i soldi parla di tutto un meccanismo guardate è interessante il contributo numero 50 per la regia vedete che livello abbiamo raggiunto siamo partiti dalla droga dal clan dalle istorsioni Pradissito va oltre la camorra la mafia parla addirittura di personaggi infedeli o comunque sia di manovre come ha ricordato Bassoli il fatto che vanno dai Ciarelli per chiedere la pistola che ha ucciso Moro perché devono probabilmente incolpare qualcun altro quando si parla poi di cose strane che succedono di inchieste veramente molto strane i pentiti in questo ci aiutano i collaboratori di giustizia allora Pradissito che parla su questa vicenda che sembra uscita dalla pena di uno sceneggiatore cioè da Latina parte l'idea di aggiustare un processo pagando contributo numero 50 parla il pentito Pradissito sentite mio suocero a Latina ha fatto sempre piccoli prestiti cose di piccolo spessore i veri affari mio suocero li faceva con persone di Roma in particolare con questo Lorenzo di solito mio suocero non parlava di queste cose era molto riservato si aprì con me solo quando stava per pronunciarsi la Cassazione nel processo Caronte a mio suocero era stato promesso pochi mesi prima dell'udienza in Cassazione che io sarei stato assolto in particolare Rosaria Ciarelli sorella di mio suocero sposata con uno zingaro e residente in San Severo in Puglia insieme al marito ci disse che aveva un contatto certo per far annullare i processi in Cassazione Rosaria Ciarelli e il marito chiesero 80.000 euro facendosi portavoce delle richieste della persona che avrebbe garantito il risultato dell'annullamento in Cassazione delle posizioni mie di Grenga Simone e di Antonio Giorgio Ciarelli oltre che di mio suocero imputato con noi del tentato omicidio di Marchetto all'epoca non avevamo questa disponibilità allora Rosaria Ciarelli e il marito anticiparono i soldi in quell'occasione mio suocero mi diede il nome e l'indirizzo di una persona che stava a Milano e che mi avrebbe dato soldi a titolo di restituzione di un investimento che aveva fatto mio suocero insieme a lui Lorenzo questa persona di Milano e mio suocero erano in affare insieme solo in questa occasione mio suocero mi parlò di questi fatti quando la Cassazione ha confermato mio suocero mi ha fatto buttare tutti gli appunti e non sono più in grado di ricordare il nome della persona di Milano o il luogo dove avrei dovuto incontrarla Lorenzo aveva legami a livello istituzionale quando ero detenuto nel 2010 nel carcere di Civitavecchia Lorenzo andò a Latina insieme a due persone e incontrarono mio suocero e Anton Giorgio Ciarelli venne fatta una proposta a mio suocero in cambio della pistola con cui era stato ucciso Massimiliano Moro mi avrebbero fatto uscire la pistola serviva per creare false prove a carico di qualche altra persona queste persone a loro volta volevano in cambio avere informazioni da noi con riguardo al territorio in sede di rilettura preciso che mio suocero avrebbe dovuto essere il loro referente come informatore sul territorio di Latina Lorenzo disse a mio suocero che le persone che erano con lui appartenevano ai servizi ed erano gli amici che fino a quel momento lo avevano sempre protetto in effetti mio suocero non ha mai subito indagini quando mio suocero è stato arrestato a casa c'erano 300.000 euro in contanti e 10-12 chili d'oro i primi due anni di carcerazione hanno comportato spese elevate per circa 160.000 euro progressivamente il denaro è stato utilizzato e l'oro è stato venduto oggi siamo nella miseria mio suocero non accettò l'offerta di Lorenzo e da quel momento in poi sono iniziati i guai giudiziari per mio suocero che ha subito arresti e sequestri dei beni a mio suocero furono sequestrati circa 10.000 euro su un conto acceso presso un istituto bancario sito nel centro commerciale l'orologio un giorno credo nel dicembre 2009 lo accompagnai in banca e parlammo con il direttore mio suocero disse al direttore che voleva tutti i soldi che stavano sul suo conto sebbene fosse sequestrato il direttore gli diede una carta dicendogli che doveva prelevare 500 euro al giorno fino all'esaurimento del conto abbastanza inquietanti chiedo subito il commento di Marco Cusumano la figura di questo Lorenzo adesso molti si chiederanno chi è questo Lorenzo e ci faremo domande su Lorenzo per magari settimane aggiustare un processo 80.000 euro poi qualcosa è andato storto perché l'hanno condannati in Cassazione e quindi è andato storto e poi l'altra cosa che dice Pradissitto questo rapporto con i servizi quando Ciarelli si rifiuta di fare quella cosa di restituire di accettare quella proposta finisce una sorta di protezione e tutto va contro di lui questo lo dice Pradissitto il tuo commento innanzitutto buona serata buona serata è inquietante no Marco è inquietante diciamo che questo questo elemento di Pradissitto è forse l'elemento più importante di questa indagine perché Pradissitto che è uno degli ultimi pentiti all'interno dei clan adesso ci sta raccontando quello che in maniera forse anche errata è stato un po' il clan più sottovalutato rispetto ai più famosi di Silvio perché di Silvio rappresentano rappresentavano soprattutto la parte un po' più armata un po' più aggressiva più violenta o almeno quella che portava all'esterno un certo tipo di violenza ai Ciarelli si stanno dimostrando e queste dichiarazioni di Pradissitto lo confermano un'organizzazione estremamente pericolosa organizzata a livello di ruoli di incarichi e di interessi soprattutto nell'ambito delle estorsioni che comunque insieme alla droga sono il settore principale di ogni attività criminale organizzata e Pradissitto che è un ex membro del clan Ciarelli è il pentito che potrebbe e che sta questo è il primo passo che vediamo in maniera oggettiva che può dare un contributo a capire quali sono i rapporti anche tra i Ciarelli e i gruppi esterni per esempio l'elemento che secondo me è quello determinante di questa indagine è senz'altro il fatto dei contatti del clan Ciarelli con la mafia siciliana ci arriviamo ci arriviamo perché lo devo far sentire lo faremo sentire tra poco dopo però un'altra cosa ti volevo chiedere e l'ho chiesta anche a Bernardo rappresenta insomma una svolta il Pradissitto in questo momento per i Ciarelli sta raccontando molto anche se molte cose sono coperte al segreto istruttorio i verbali sono segretati io mi aspetto molto guardate tra Zuppardo e Pradissitto io mi auguro rispetto a quello che già hanno detto Pugliese e Riccardo Agostino di fare luce soprattutto sui rapporti scelerati col mondo politico perché Pugliese e Agostino ne hanno parlato sarei curioso di sapere cosa ha detto Zuppardo ma cosa ha detto Pradissitto perché i Ciarelli avevano collegamenti con la politica con le vecchie amministrazioni insomma ci sono i fatti c'è un'indagine che parla dei certificati ai Ciarelli fu indagato e poi l'ex vice sindaco fu indagato l'ex vice sindaco Maurizio Calardo fu indagato in questa vicenda ma ci era la gara con i Ciarelli è certificato ci sono le carte sarà interessante vedere quel lato lì però ti volevo chiedere quanto è importante come ho chiesto a Bernardo il ruolo e tutte queste dichiarazioni di Pradissitto Marco in questa fase dico anche per il futuro sono essenziali perché stanno svelando innanzitutto il fatto che i clan sono ancora attivi nel senso che negli ultimi anni nonostante le numerose indagini hanno continuato ad effettuare attività estorsiva a livello direi molto capillare perché se noi pensiamo che queste persone riescono addirittura a creare un account Facebook a utilizzarlo utilizzare lo stesso account più persone per estorcere denaro fare minacce adeguandosi un po' anche ai tempi moderni alla tecnologia alcuni stavano già in carcere altri erano liberi comunque non è un clan evidentemente in agonia ancora nonostante i duri colpi inferti negli ultimi anni è un clan ancora organizzato credo però che questo sia un passaggio determinante questa indagine credo che possa rappresentare un po' una chiusura del cerchio intorno alla criminalità organizzata di Latina perché comunque queste accuse ulteriori con l'aggravante mafiosa che ricordiamo si aggiunge e crea un quadro di accuse molto più pesante perché poi c'è anche da spiegare questo aspetto molte persone dicono ma come stanno tutte già in carcere che cosa è cambiato come se stare in carcere fosse una condanna qui si parla sempre di carcerazione preventiva quindi il fatto che siano colpiti da nuove accuse con l'aggravante mafiosa peggiora ulteriormente la loro la loro situazione quindi non è esattamente un dettaglio è un aggiungere delle accuse ulteriori a un quadro già pesantemente gravato da indizi e inchieste che già negli ultimi anni hanno colpito il clan in maniera determinante quindi si aggiungono dei dettagli e come stiamo vedendo anche negli ultimi tempi spesso poi le procure e tribunali giustamente creano anche delle unificazioni di procedimenti che snelliscono poi i processi e consentono di arrivare a delle condanne non escono perché poi la gente pensa che escono subito assolutamente non escono almeno per queste accuse qui la carcerazione preventiva ha un termine fino a un anno in caso di aggravante mafiosa quindi non è che è un po' luogo comune quello che si sente dire spesso e si legge anche sui social tanto tra due mesi stanno fuori non stanno fuori assolutamente no allora prima di parlare della camorra e della mafia dove Pradissito racconta molto Marco Cusumano sottolineava come aveva fatto Bernardo che era un gruppo comunque sia organizzato era un gruppo anche tra virgolette cattivo a un certo punto Pradissito parlando con i magistrati di Piazzale Clodio della direzione estetuale antimafia parla di quella che era la strategia omicidia del gruppo a un certo punto questo gruppo voleva fare veramente come Palermo una strategia per ammazzare e fare tutti fuori è il contributo numero 55 poi ve lo commenteremo anche con i nostri due ospiti perché siamo partiti dalle figure di Ferdinando Cirelli e Carmine Cirelli questo fatto inquietante dei rapporti con personaggi delle istituzioni dei servizi segreti forse quegli agenti un po' infedeli la possibilità addirittura di aggiustare un processo in Cassazione la vicenda addirittura di cambiare per l'omicidio Moro lo scenario magari incolpare qualcun altro anziché altri ha raccontato queste cose dopo andremo alla mafia alla camorra che è molto più inquietante però a un certo punto durante questi racconti parla della strategia omicida cioè di questi Cirelli che volevano veramente in quel periodo ammazzare tanta gente contributo numero 55 per la regia il collaboratore Pradissitto parla proprio di questa che era la strategia omicida sentite dal verbale di Pradissitto Andrea del 20 aprile 2021 ho chiesto di parlare con i magistrati perché ho partecipato sia alle riunioni preliminari sia all'esecuzione dell'omicidio di Moro Massimiliano voglio collaborare con la giustizia e questa decisione ho cominciato a maturarla quando sono uscito per un periodo di semilibertà ed ho capito che volevo una vita normale per dare una vita a mio figlio e mia moglie omissis dopo l'omicidio di Fabio Buonamano detto Bistecca mio suocero aveva cercato di calmare gli animi e organizzò una riunione a Campoboario a casa di Armando Di Silvio questo perché Di Silvio Pasqualino figlio di Armando era agli arresti domiciliari era il 2 o il 3 febbraio 2010 alla riunione erano presenti Ciarelli Ferdinando detto Furt io Di Silvio Ferdinando Pupetto Simone Grenga Ferdinando Macu Ciarelli Di Silvio Giuseppe Pasquale detto Pasqualino Carmine Di Silvio detto Sale Porcellino come rappresentante della zona Gionchetto all'inizio parlammo della latitanza di Di Silvio Costantino detto Patatone e di Di Silvio Giuseppe detto Romolo ricercati per lo stesso omicidio di Fabio Buonamano in primo luogo si parlò del sostentamento economico per la latitanza di Silvio Carmine disse che era stato Buonamano Fabio a mettere la bomba a mare a latina per uccidere Di Silvio Ferdinando detto il bello noi altri restammo sorpresi in quanto non sapevamo che Buonamano avesse partecipato all'omicidio del bello eravamo tutti disponibili a sostenere la latitanza dei due in quanto ormai tutte le famiglie si erano unite faccio riferimento ai Ciarelli ai Di Silvio di Gionchetto e ai Di Silvio di Campoboario io ho pensato che avessero ucciso Buonamano per far vedere che anche loro reagivano rispetto ad un'offesa subita proprio come noi avevamo fatto con l'omicidio di Moro dopo il tentato omicidio di Carmine e Ciarelli noi eravamo stupiti perché l'obiettivo avrebbe dovuto essere Carlo Maricca in quanto i Di Silvio hanno sempre ritenuto che il responsabile fosse Carlo Maricca e le voci erano queste Di Silvio Carmine ribadì che Buonamano aveva avuto un ruolo avendo piazzato la bomba il contributo per la latitanza è stato dato qualche giorno dopo da Ferdinando Ciarelli detto Macu ma ricordo che per primo mio suocero Ferdinando Furth aveva accettato di contribuire economicamente il denaro versato da Ferdinando Ciarelli detto Macu era per tutta la fazione Ciarelli credo abbia dato circa 20.000 euro in quel momento e non so se poi si è stato versato altro so che i Di Silvio di Campoboario non ne contribuirono per mancanza di disponibilità in quella riunione venne delineata una linea stragista vuol dire che dovevano essere eliminate tutte le persone che potevano impedire che noi tutti prendessimo il potere su Latina e provincia in modo incontrastato il primo nome che fu fatto fu quello di Marchetto Fabrizio il secondo nome fu di Carlo Maricca il terzo nome fu quello di Mario Nardone il cognato Maurizio Santucci e i due fratelli Mazzucco Antonio e Pietro queste ultime persone erano meno di rilievo ma legate da vincoli di parentela con quelle più rilevanti che erano Fabrizio Marchetto Carlo Maricca e Mario Nardone ciascuno si prese un obiettivo Carmine Di Silvio detto sale porcellino si incaricò dell'omicidio di Carlo Maricca di Mario Nardone e del cognato Santucci Maurizio perché li ritenevano in qualche modo coinvolti nell'omicidio del fratello Ferdinando il Bello io e la frangia dei Cerelli prendemmo l'incarico di uccidere Fabrizio Marchetto e i di Silvio di Campoboario presero l'incarico di uccidere i fratelli Mazzucco se fosse una fiction in prima serata si parla di criminalità le riunioni le stragi la mafia uccide solo l'estate ci sta no? uno scrive sta roba invece cose vere che dice il pentito e queste erano le decisioni chiedo a Marco e a Bernardo un commento su quella che era la cosiddetta strategia stragista del gruppo sia Marco che Bernardo cioè i nomi sono poi tra l'altro i nomi sono nomi noti nell'ambiente della criminalità e denotano confermano quello che già avevano raccontato altri pentiti e cioè che era in atto in quegli anni una guerra feroce all'interno dei clan per il controllo del territorio sono gli anni in cui la cocaina si diffonde in maniera molto più capillare dopo un lungo periodo in cui l'eroina aveva avuto diciamo una grande fetta di mercato nell'ambito dello spaccio di droga la cocaina diventa più gestibile più anche redditizia da un punto di vista della gestione dello spaccio e gli interessi aumentano ricordiamo anche che Latina è una zona particolarmente diciamo appetibile per i clan proprio per l'elevato consumo di droghe e questo ha sempre attirato interessi di diversi gruppi vedremo poi parlando più avanti anche al di fuori della provincia proprio per il grande bacino di utenza e qui vediamo ecco mostrare i muscoli perché poi alla fine nel momento in cui due gruppi così organizzati cominciano a contendersi il territorio e ci sono anche molte vendette trasversali perché poi c'è l'omicidio di capoportiere che era rimasto comunque nel limbo non aveva avuto colpevoli c'è poi anche un sistema secondo me in cui vengono amplificate alcune alcune voci che circolano all'interno dei gruppi per cui si accusa qualcuno o qualcun altro in base a pseudo moventi poi alla fine quando andiamo in tribunale vediamo che le cose sono molto più semplici rispetto a quanto emergono in fase di indagine perché poi gli interessi quelli veri quelli corposi muovono le decisioni operative quindi finché si parla in una riunione informale si possono fare anche le liste omicide di chissà quante persone poi bisogna vedere poi stringendo quali azioni il clan decide di mettere realmente in pratica e quelle sono sempre dettate da interessi Bernardo la strategia strategista poi daremo la pubblicità e poi dopo la pubblicità Pradissito parla di mafia e di camorra anche questo è inquietante su quelle cose che racconta però su questa cosa qui Bernardo si la strategia stragista era emersa già nelle indagini sull'omicidio Moro e probabilmente verrà portata agli atti anche nel processo che è iniziato da poco incardinato al tribunale di Latina diciamo che in quella strategia poi alla fine per i clan almeno per il clan di Silvio il colpevole dell'omicidio più eclatante della storia della città di Latina cioè l'autobomba sul lungomare di Latina il colpevole per i clan è Maricca ma in realtà anche per la squadra mobile la DDA sarebbe stato Maricca perché soltanto che quella è un'indagine che è stata bloccata che bisogna dirlo l'anno scorso si è fermata a riesame quindi in diciamo in tanti anni almeno 5-4 anni di indagini che sono poi sfociate in ordinanze di custodia cautelare e poi in processi quella credo che sia l'unica della DDA che in questo momento che è arrivata a un certo punto che si è bloccata quindi sia per lo Stato che per i clan i responsabili di quell'omicidio da cui poi partono le varie lotte intestine e quello che veniamo dopo con le gambizzazioni e gli omicidi del 2010 ecco chiamiamolo l'omicidio madre non ha colpevoli non ce l'ha ancora e sono passati ormai quasi 20 anni e diciamo che trova un po' di colore di ombre il fatto che non abbia colpevoli anche alla luce delle ultime dichiarazioni per addissitto cioè lui che cosa ci dice ci dice guardate che mio suocero per anni non ha avuto indagini era a contatto con questo fantomatico Lorenzo vicino ai servizi segreti addirittura con la capacità di aggiustare le sentenze ora se anche questo è avvenuto è vero che sembra un po' romanzo criminale però è anche vero che ci sono dei fatti e i fatti che i ciarelli come diceva bene Marco Cusumano per anni sono stati sottovalutati non solo negli ambiti dai cittadini così sembra o meglio così sembra sottovalutati magari qualcuno non intiagava davvero su di loro io penso siano stati sottovalutati tutti i clan latina almeno per 15 anni poi magari qualcuno che doveva indagare diceva vabbè ma lasciamo listare perché c'è Lorenzo non è una battuta oppure lasciamo listare no c'è il fatto inquietante poi ci arriveremo sul discorso dell'alleanza con la mafia la camorra e del rispingimento dei casalesi gliene vogliamo parlare si apre un altro fronte i ciarelli vanno anche dallo Stato a chiedere aiuto che non è la cosa che riguarda Di Silvio con mafia e camorra non è la cosa che riguarda Di Silvio ecco perché Pradissitto introduce questo discorso i verbali in cui dice le cose quelle poche cose che dice su queste cose ora sono pubbliche le altre sono secretate allora facciamo cosa do la linea alla pubblicità torniamo da verbali di Pradissitto che parlano della camorra per l'esattezza casalesi Sandokan e parlano della mafia e qualcuna latina resterà un po' sorpreso dopo che sentirà quello che ha raccontato Pradissitto pubblicitare state con noi centro di produzione televisiva cinematografica gruppo Sciscione in via Giacomo Peroni 130 a Roma zona Tecnopolo Tiburtino uscita 13 o 14 del grande raccordo anulare 5 teatri di diversa metratura da 100 metri quadri a 1000 metri quadri con un'altezza massima di 9 metri ognuno con un parco luci completo e di ultima generazione 3 regie full HD con possibilità di 4k 8 postazioni di montaggio sala audio insonorizzata per voice over o doppiaggi 8 tra camerini e sale trucco ampio parcheggio per la sosta di mezzi di produzione cinematografica e televisiva free wifi possibilità di utilizzo uffici durante la produzione servizio di receptionist talent show reality talk show film e serie tv centro di produzione televisiva e cinematografica gruppo Sciscione professionalità grandi spazi innovazione comodità e cortesia a tua disposizione alla racing facciamo materassi su misura in soli 30 minuti analergici sfoderabili e lavabili non ci si crete anche là ma che stai a dormire svegliate che devo lavorare c'era un sogno che era Roma sarà realizzato vivi un giorno da antico romano scopri Roma World il nuovo parco a tema di Cinecittà World Roma World che la storia abbia inizio Penny Lipp eleviamo i tuoi sogni vendita ed assistenza montascale a poltroncina di ultima generazione per scale dritte e curve montascale a piattaforma linea mini ascensori domestici chiama il numero in sovraimpressione riceverà in breve tempo la visita di un nostro consulente che ti consiglierà la soluzione migliore e più conveniente per il tuo ambiente Penny Lift eleviamo i tuoi sogni in via Bernardino Alimena numero 60 zona romanina ci siamo noi 42 66 52 88 numeri all'otto? no sono taglie e che pensavate? solo donna? no grandi taglie anche per uomo venite a toccare con mano ipermoda alla Residum facciamo da dratti su misura in soli 30 minuti perché i lavori non vanno fatti di fretta bravo grazie un panorama fantastico per una serata magica questo priezze ciccariello così fresco e frizzante è il compagno ideale per iniziare nel modo giusto una serata da sogno preferisci rosso? sì pur che sia il saracino ciccariello ottima scelta vimici cariello gocce di gusto inimitabili alla Residum abbiamo servizio di comapiuma taglio per imbottire i cuscini dei vecchi divani e farli diventare come nuovi non ci credi? nemmeno io bravo grazie imballaggi Fidaleo il punto di riferimento per imballaggi in legno plastica cartone la nostra produzione è totalmente ecosostenibile imballaggi Fidaleo dal 1963 al servizio del cliente imballaggi Fidaleo via appia fondi alla Residum facciamo materassi su misura in soli 30 minuti li avvolgiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina così andiamo anche a risparmiare sui soldi del trasporto bravo grazie voi venite quando volete noi intanto ci alleniamo ricordatevi di fare la nuova sintonia dei canali sul vostro televisore Gold TV passa dal canale 17 al canale 11 Lazio TV passa dal canale 12 al canale 13 Roma TV prenderà il canale 82 Tele Regione prenderà il canale 118 la nuova sintonia deve essere effettuata tra il 14 e il 17 giugno per Roma e provincia Latina e provincia e Prosinone provincia scarica la nuova applicazione di Lazio TV sul tuo smartphone Apple o Android seguici in diretta da tutto il mondo scarica adesso l'app di Lazio TV è gratuita e lo sarà sempre inizia con un clic bene bene rientriamo in studio anche il nostro pubblico parla e ovviamente si interroga su questo allora sempre sulle dichiarazioni di Pradissito sull'inchiesta contro il clan Sciarelli dell'antimafia ci sono altre cose che riguardano ovviamente e andiamo in un terreno più delicato sul quale molte cose sono state rese pubbliche sono in questa ordinanza altre sono secretate e parliamo della Camorra dei Casalesi di Sandogan e anche della mafia perché rispetto ai di Silvio i Sciarelli ecco perché in tanti considerano questa inchiesta sui Sciarelli molto molto importante e considera la direzione estretuale antimafia e i magistrati dell'antimafia considerano importanti fino adesso riscontrate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andrea Pradissito parliamo della Camorra dei Casalesi allora partiamo questo verbale e poi sentiamo il commento sia di Marco che di Bernardo e a un certo punto lui parla dei contatti dei Sciarelli con i Casalesi Casalesi che vogliono entrare nel mercato i Casalesi fanno riferimento a Sandogan al loro lidere all'epoca il verbale che in cui parla dei Casalesi è inserito in questa ordinanza che ha portato alle 15 ordinanze di custodia cautelare è il contributo numero 52 per la regia 5-2 Pradissito parla della Camorra e dei Casalesi sentite nel 1996 e 1997 Ettore Mendico esponente del clan dei Casalesi con il quale ho parlato personalmente si presentò a casa di Carmine Ciarelli per il tramite a Latina di Matteo Baldascini che aveva dato appoggio ai Casalesi l'obiettivo era che la famiglia Ciarelli si alleasse al clan dei Casalesi di Francesco Schiavone l'obiettivo di questa riunione era proporre questa alleanza quel giorno insieme a Mendico erano presenti altre persone per conto della famiglia Schiavone di cui non ricordo il nome i Casalesi volevano attraverso questa alleanza conquistare il territorio di Latina dopo aver occupato il Sud Pontino tramite la cellula riconducibile a Ettore Mendico i Casalesi volevano una percentuale sui profitti illeciti ed un appoggio militare in caso di una guerra criminale ma non conosco bene i dettagli di questo accordo questi fatti lo appresi direttamente da Carmine Ciarelli questa proposta non fu accettata da mio suocero e Luigi Ciarelli i quali si recarono a Borgo Carso dove abitava Matteo Baldascini per intimidirlo nella circostanza spararono un intero caricatore di un'arma provarono ad ucciderlo ma senza riuscirvi i Ciarelli temevano una reazione si organizzarono per una risposta insieme a Pino Pess Alessandro Artusa e Tozzi questa risposta non c'è mai stata perché Carmine Ciarelli e il padre Antonio andarono a denunciare i Casalesi la storia finì lì pensate i Casalesi che vanno dai Ciarelli vogliono entrare non si mettono d'accordo tentano e sparano a Baldascini ma la cosa clamorosa la commentiamo adesso con Bassoli e con Cosumano che in effetti i Ciarelli andarono a denunciare in questura i Casalesi cioè fermarono l'ascesa i Casalesi li denunciarono questo è un altro fatto che la dice tutta sulla cosa Bernardo e poi Marco su queste ultime dichiarazioni sì li denunciarono però anche qui diciamo che la storia poi è cambiata perché poi al processo dopo anni Antonio Ciarelli il capostipite negò di aver avuto minacce i Casalesi all'inizio loro denunciarono e dissero che i Casalesi li avevano minacciati dicendo che gli avrebbero avrebbero ucciso loro un figlio al giorno se non erro adesso non ricordo bene i termini ma insomma l'avevano minacciati pesantemente l'aspetto più inquietante di questo discorso che è appena andata appena andata in onda è che qui ritornano come al solito insomma sempre nomi della vecchia criminalità anche latinenze cioè che cosa succede quando i Casalesi cercano di entrare nel ramo delle estorsioni e nel ramo della droga probabilmente perché non scordiamoci che nel ramo dei rifiuti loro già c'erano entrati perché la discarica del Borgo Montello c'è una relazione della commissione Ecomafi del 2017 che è una summa di storia criminale dei chiasalesi in terra pontina che cosa fanno i ciarelli pare da quello che ci racconta Pratissitto che Carmine avrebbe anche sarebbe stato possibilista mentre gli altri due fratelli Ferdinando Furt e Luigi che sarebbe il numero tre del clan loro non sono d'accordo e scaricano un'intera arma addosso alla casa di Matteo Baldascini a Borgo Carzo Baldascini è un altro personaggio coinvolto in più fatti e vicino ai casalesi poi che succede loro temono una reazione da parte che stai parlando della fine degli anni 90 i casalesi sono probabilmente il clan più potente d'Italia molto potente erano veramente molto potenti e allora che cosa fanno contattano Artusa Pess e Tozzi chi sono questi tre sono personaggi slegati dai clan di Latina ma in realtà non proprio slegati sono temuti perché sono temuti hanno nel curriculum un criminale un omicidio un omicidio Saccone in Piazza Moro quindi nel mondo criminale se tu spari se tu uccidi sei temuto anche se non fai parte di qualche famiglia e quindi contattano questi personaggi insomma tutto questo quadretto insomma piuttosto inquietante perché Latina è stata descritta secondo me a torto con un mito della bonifica con quando invece era un'altra cosa la storia di questa città negli ultimi 50 anni ci dà l'impressione che insomma questo 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 clan Chiarelli che è un clan al di là delle sentenze che ci saranno che ci dovranno essere abbia giocato su più tavoli sul tavolo della criminalità e sul tavolo di allacci istituzionali piuttosto strani inquietanti al di là delle questioni di predissetto perché le indagini non le subivano e addirittura quando vanno a denunciare vengono assolutamente creduti perché poi su quella denuncia è stato fatto un processo che non è è stato fatto un processo che si chiama anni 90 sul clan Mendico e poi c'era un ulteriore processo proprio su questo fatto specifico che però ripeto dopo anni quando sono stati chiamati a testimoniare hanno negato tutto quindi perché è probabile che hanno apparato quei 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 disguidi quelle distanze di vedute con i casalesi in altra maniera e ce lo spiega Pradissitto tu lo so che non ci vuoi arrivare ma poi ci arriveremo con un'alleanza molto molto potente mafiosa sentiamo su questo adesso sentiamo sulla mafia Pradissitto altro inquietante Marco su questo qua dei casalesi è proprio questo della mafia il passaggio che ci aiuterà a comprendere qualcosa che onestamente nessuno aveva capito in maniera del tutto certa questa denuncia come ha detto giustamente Bernardo tra l'altro non ha portato ovviamente direi a nulla perché poi la vera cosa da denunciare sarebbe stata la richiesta di una percentuale sul guadagno dello spaccio quindi voglio dire siamo veramente nel regno del paradosso è chiaro che i casalesi come immagino anche altri clan abbiano sempre avuto degli interessi di espansione sul territorio di Latina per il motivo di cui parlavamo prima cioè Latina è una città strategica è una zona dove c'è un consumo elevato si trova a metà tra Roma e Napoli è un territorio di spaccio è impensabile che un gruppo che all'epoca non era neanche così strutturato come quello dei ciarelli potesse da solo pretendere di gestire una gallina dalle uova d'oro di questa portata quindi evidentemente i casalesi come immagino anche altri gruppi all'epoca tentarono di entrare in un mercato perché non sono mai riusciti ad entrare questo lo capiremo o almeno abbiamo un elemento in più che ci può portare alla comprensione perché poi quello che si dice sulla mafia quello che ci dirà Pradistito sulla mafia in realtà è molto poco cioè ci dice qualcosa di esplosivo di importante magari è coperto ancora da segreto però è poco a livello di dettaglio quindi io immagino che ci sarà poi un'attività di indagine che dovrà verificare poi effettivamente in cosa consiste questa alleanza tra la mafia e i ciarelli allora la mafia palermitana che dice Pradistito in questa ordinanza c'è un passaggio però noi siamo convinti io, Marco, Bernardo siamo convinti che sulle altre cose che ha detto soprattutto sulla mafia palermitana siano giustamente coperte da segreto per il momento e il contributo numero 56 per la regia in cui Pradistito parla cosa impensabile di latitanti mafiosi ricercati nascosti nel centro praticamente quasi di Latina sentite che dice prima ancora che questa denuncia diventasse pubblica devo riferire un fatto inedito Carmine Ciarelli chiese l'intercessione della famiglia Lopiccolo di Palermo per bloccare il tentativo delle clan dei casalesi di occupare la città di Latina questa mediazione andò a buon fine devo aggiungere in proposito che la famiglia Ciarelli diede ospitalità a Latina per circa un anno a due soggetti appartenenti alla famiglia Lopiccolo che erano latitanti credo fosse il 1994 o il 1995 per questo fatto la mafia siciliana rimase riconoscente alla famiglia Ciarelli e si impegnò ad impedire l'ascesa dei casalesi abbiamo chiuso il cerchio in modo inquietante due latitanti di Palermo nascosti a Latina la mafia interviene ferma i casalesi e a questo punto se allea o ci sarà un accordo un presunto accordo con i Ciarelli Pradissitto qui racconta delle cose probabilmente ne ha raccontate altre ma è inquietante anche perché la famiglia Lopiccolo è una famiglia importante Bernardo lo vogliamo ricordare chi sono questi non è che sono questi gli ultimi arrivati no 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 assolutamente i Lopiccolo tra l'altro anni fa ci fu l'acquisizione dell'archivio del boss Salvatore Lopiccolo in cui si evidenziavano anche lì i contatti con i servizi segreti stiamo parlando veramente anche se non si offenderanno i monarchici ma dell'aristocrazia di Cosa Nostra perché dialogavano a tu per tu con Bernardo Provenzano erano vicino e sono vicino a Matteo Messina Denaro il super latitante il super latitante che non si riesce ad acciuffare quindi è probabile che quello che dice Pradissitto sia proprio vero nel senso come respingere i casalesi con una denuncia alla caserma dei carabinieri all'epoca non lo so se è così credibile no probabilmente l'hanno respinti perché i casalesi di Sandokan che alla fine degli anni 90 era probabilmente il clan più potente d'Italia anche a livello economico perché aveva inventato i business dei rifiuti se lo sono inventati loro e se arriva un'ambasciata dei lo piccolo che dicono ai casalesi no adesso dovete bloccarvi su Latina loro non possono che dire di sì anche perché non scordiamoci che anche alcuni clan di Camorra sono punciuti sono collegati a Cosa Nostra quindi è chiaro che se arriva un clan così importante i casalesi non avrebbero potuto con la loro anche se in quel momento erano il clan più più forte almeno economicamente non avrebbero potuto continuare nel loro proposito ora da chiedersi un altro discorso chi mette in contatto quelli che molti venivano cerchiamo di storicizzare vent'anni fa noi siamo latinenzi se parlavamo a Milano o a non lo so da qualche altra parte dei nostri clan ma sì ma quelli sono zingarelli non li chiamavamo neanche clan non li chiamavamo neanche clan bisogna essere onesti magari subivamo una pressione evidentemente mafiosa ma forse non riuscivamo a capirlo che era mafiosa ecco questi zingarelli non erano assolutamente zingarelli perché persone che riescono ad avere contatti con un clan di cosa nostra così importante e a respingere i casalesi di Sandogan e allora insomma c'è qualcosa che ci è sfuggito che ci è evidentemente sfuggito e come dicono anche tra di loro nelle intercettazioni del processo Garonte a un certo punto c'è un disilvio che dice noi abbiamo le armi ma quelli riferiti ai cerelli hanno i soldi è probabilmente con questi soldi che loro hanno acquisito anche la loro caratura criminale altrimenti molte cose ripeto non si spiegherebbero in questa città ed è importante anche capire che tu l'hai ricordato il capo stipite dei cerelli dialogava tranquillamente con un vice sindaco di Latina si faceva fare il suo certificato insomma dobbiamo sperare che Pradissitto abbia anche se lui è molto giovane quindi molte cose rispetto ai capi molte cose non le conosce ma ha vissuto con loro ma ha vissuto con loro ecco forse fiaccati da arresti e con la prospettiva di anni e anni di carcere di carcere a vita qualcun altro si possa qualcun altro si possa pentire la prospettiva del carcere a vita è così insomma Marco ci mancava l'alleanza con ilo piccolo di Palermo con la mafia quindi ciarelli erano diventati potenti anche per questo anche se è una pagina ancora da scrivere meglio che noi dobbiamo conoscere o no ma sono dieci righe in un'ordinanza di 270 pagine che sono praticamente una bomba un'esplosione dal punto di vista investigativo perché dicono innanzitutto una cosa clamorosa cioè che Latina che il clan ciarelli è Latina ha protetto due latitanti della mafia ora la domanda principale è chi sono questi latitanti bravo perché se un clan e siamo nel periodo scusa che ti interrompo siamo nel periodo delle strage noi siamo nel periodo in Italia dove ammazzano Falcone ammazzano Borsellino ci sono le bombe nelle città più importanti nelle città d'arte italiane e in quel periodo 92, 93, 94 i ciarelli ospitano latitanti mafiosi allucinante perché è quel periodo là esatto siamo negli anni 90 il clan lo piccolo non è un clan allora in Sicilia la mafia tutta una geografia particolare ci sono dei clan diciamo più piccoli semplificando e altri clan che controllano gruppi più piccoli lo piccolo è uno di questi gruppi più grandi quindi ha meno 3-4 diciamo clan minori è un gruppo organizzato un gruppo importante con contatti di vertice ora che un clan del genere abbia un contatto diretto con i ciarelli e abbia una fiducia talmente elevata da affidargli la latitanza di due persone ok per poi ricambiare con una protezione una protezione contro un altro clan enorme che è quello dei casalesi è qualcosa che dal punto di vista delle dinamiche criminali è assolutamente da chiarire e da comprendere perché ci deve essere molto altro dietro molto altro dietro sicuramente quindi le domande sono uno in che modo i ciarelli hanno contattato il lo piccolo perché è evidente che ci saranno uno o più persone che hanno traghettato questa conversazione questo contatto due chi sono questi latitanti e cosa hanno fatto i ciarelli per il clan lo piccolo in cambio di questa protezione oltre eventualmente a questa latitanza il fatto che sia stata inserita in maniera così sintetica all'interno dell'ordinanza ovviamente fa pensare che ci sia dietro tutto un altro tipo di approfondimento che ovviamente adesso in questa ordinanza in questo tipo di indagini non aveva attinenza quindi ci aspettiamo di comprendere molto da questo aspetto qui che ripeto è assolutamente inedito e di fatti anche il giudice lo sottolinea riportando la dichiarazione di Pradissito che effettivamente non risulta da nessun'altra parte e spiegherebbe anche il fatto che sia stato tutto sommato intoccabile il clan Ciarelli per molti anni forse un po' per come dicevamo prima per una sorta di sottovalutazione da parte della città e anche forse da parte di qualche investigatore dell'epoca ma evidentemente questo apre a tutt'altro scenario che potrebbe portare a sviluppi interessanti guardate è inquietante quello era il periodo terribile insomma dagli anni 90 in poi quei 5-6 anni successivi insomma la morte di Falcone Borsellino le bombe nelle città d'arte la mancata strage allo stadio olimpico di Roma insomma sapere che un clan i Ciarelli nascondono due latitanti che probabilmente scappavano perché pressati dalle indagini dopo le stragi li nascondono a Latina per tanto tempo in cambio di che è un fatto inquietante sicuramente Pradissito ha detto di più su questa vicenda perché è vero che magari non l'ha vissuti ma ha saputo perché magari avrà chiesto al cognato al social eccetera ma perché noi abbiamo ospitato i latitanti perché c'è questa quindi probabilmente fa parte di un altro filone anzi sicuramente fa parte di un altro filone però insomma ecco perché questa inchiesta che stasera vi abbiamo raccontato vi stiamo raccontando puntando sui fatti salienti sui passaggi salienti è importante farla conoscere ai cittadini italiani perché la nostra trasmissione si vede in tutta Italia oltre che a Roma nel Lazio ci seguono ovviamente in tutta Italia è importante per far capire poi le dinamiche su quelle che sono le organizzazioni criminali e ricostruire il passato per arrivare poi ad interpretare la criminalità dei giorni nostri molto più legata ai colletti bianchi ai professionisti a livello alto da questo punto di vista dobbiamo tra poco ospiterò Andrea Stabile che torna con un libro e ci arriviamo proprio con il filone politico che domani verrà presentato che fa parte di questa storia del centro-destra perché i ciarelli erano legati come i di Silvio al mondo del centro-destra a livello politico guardate non è un'accusa non sto puntando il dito sono le carte che lo raccontano lo dicono i pentiti lo diranno sicuramente Pradissitto avrà raccontato delle pensioni di invalidità dei suoceri era tutto il mondo del centro-destra domani questo libro racconta un'altra parte di quel centro-destra con le carte altre carte inedite di un'indagine affossata non si sa come dalla magistratura che riguardava personaggi che ancora sono in politica ma che hanno governato la seconda città del Lazio negli anni passati allora prima di far arrivare stabile di parlare di questo libro la presentazione ci sarà domani sera nella città di Latina voglio chiudere per completare e raccontare magari nelle prossime settimane successivamente ci torneremo a queste indagini che è importante come torneremo su quella dell'Andrangheta ad Anzio e Nettuno come quella della locale a Roma sempre dell'Andrangheta però questa sera abbiamo raccontato fatti credetemi importanti e anche inquietanti che hanno aperto altri scenari con i verbali che vi abbiamo fatto leggere e vedere del collaboratore di giustizia la politica perché non se ne parla più di indagini su rapporti tra politica eccetera secondo me non se ne parla perché gli accertamenti sono andati avanti ci sono ancora accertamenti e secondo me gli altri collaboratori di giustizia che si sono aggiunti ai primi due Renato Pugliese e Agostino Riccardo ne stanno parlando e quindi probabilmente questi accertamenti proseguono anche perché lo possiamo avere in grafica sono già cinque i collaboratori di giustizia della criminalità pontina ma secondo me ne arriverà qualcun altro ecco li vedete in queste foto Renato Pugliese Agostino Riccardo Emilio Pietro Bono Andrea Pradissitto e l'ultimo nella foto a destra in basso è Maurizio Zuppardo a mio avviso sono d'accordo anche con quello che diceva Bernardo ne arriveranno altri collaboratori di giustizia anche in virtù delle condanne di queste indagini attualmente le indagini dell'antimafia possono contare non era mai successo nella storia su cinque collaboratori di giustizia che hanno parlato e hanno raccontato tanto e sono stati giudicati credibili finora dai processi e dai giudici durante i processi la politica chiedo sia a Bernardo e a Marco che pensate insomma Pradissitto avrà parlato sicuramente di questo eccetera cosa dobbiamo aspettarci che pensate per chiudere questa cosa sui rapporti perché ne hanno parlato più più persone di una parte politica che era all'epoca quel centrodestra però molti di questi sono ancora in carica e i personaggi riferiti ai clan Bernardo e Marco che pensate Pradissitto secondo te ha parlato di quello secondo me ha parlato di politica secondo me Zuppardo ha parlato di politica io penso questo sì probabilmente hanno parlato di politica però non dobbiamo dimenticarci che al di là delle indagini poi ci sono anche i processi in questo momento a Latina ce ne sono tre che parlano di legami tra clan e politica processo scheggia alla sbarra c'è l'ex consigliera Cetrone c'è un processo a Roberto Bergamo a Roberto Bergamo che si è rappresentato per Tripodi Sindaco nel 2016 dove il coimputato è Angelo Morelli affiliato al Cantravali e poi c'è il voto di scambio politico mafioso un unicum a Latina che vede imputati Forzan e l'imprenditore di rifiuti del prete era stato indagato e lui è tuttora anche Matteo Di Nolfi europarlamentare non si sa come si procederà nei suoi confronti se si procederà magari verrà archiviato non lo sappiamo però comunque ci sono anche i processi da svolgere e spesso nei processi poi emergono cose che non erano emerse nelle indagini questo è importante perché poi nelle varie testimonianze nelle varie in un'aula di tribunale possono venire fuori anche questioni inedite è successo è già successo e per agganciarmi a quello che dicevi te sicuramente Pratissitto avrà dovuto dire qualcosa sui rapporti con la politica è anche vero che diciamo che il Cranciarelli negli ultimi soprattutto la sua famiglia quella di Ferdinando Furt era un po' in calo nel senso che si partiva dai fasti di una villa in via dei Sabini qui vicino con tutta la simbologia del mondo rom e si arriva a un appartamento a via Milazzo tra l'altro è storto a un avvocato di Latina in cui addirittura qualche mese fa sia Roberto Ciarelli che la madre che lo occupavano senza pagare l'affitto sono stati denunciati dai carabinieri perché si erano allacciati abusivamente all'elettricità quindi bisogna vedere anche fino a quando questo clan era così potente secondo me a naso dopo la guerra criminale è andato un po' più a impoverirsi però Pradissitto che entra nella famiglia diciamo a fine anni tra il 2007 e il 2008 ecco in quei due tre anni diciamo cinque sei anni ecco magari qualche cosa l'ha vista sicuramente ha visto tanto e poi ha ascoltato i rapporti con la politica chiedo a Marco Cusumano sicuramente ecco oltre ai processi che ha giustamente indicato Bernardo ce n'è un altro che vede comunque imputato un ex deputato della Repubblica un leader nazionale di un partito che oggi praticamente è al vertice della scena politica un ex politico che è stato nel comune di Latina che risponde al nome di Pasquale Maglietta perché comunque il processo Arpalo è in corso è un processo molto difficile un processo purtroppo anche difficile da raccontare per noi per noi cronisti perché essendo basato su accuse sostanzialmente di tipo finanziario è estremamente tecnico è molto tecnico anche devo dire anche per le parti coinvolte perché si basa su una serie di attività di indagine che sono complesse ma è un processo anche quello molto molto importante perché ha svelato dei meccanismi di potere di fatto comunque i rapporti tra il calcio e la politica sono da sempre rapporti spesso inquinati da interessi e da infiltrazioni criminali l'abbiamo visto l'abbiamo parlato anche qui tante volte e quello è un esempio eclatante vorrei aggiungere una cosa mi scuso se è stata già detta quando ero assente all'inizio ma c'è un appello importante che vorrei rilanciare che è quello del vicequestore di Latina Giuseppe Pontecorbi che invita alla denuncia perché poi noi possiamo analizzare sviscerare eccetera ma se le persone vittime di questi soprusi di queste estorsioni non trovano il coraggio di denunciare è veramente complesso c'è stato qualche passo in avanti ultimamente poco tempo fa con gli arresti del clan Casa Monica quando vennero a Latina a mangiare in un ristorante a Lido di Latina spendendo 1600 euro non volevano pagare chiedevano soldi per andare via quindi un'estorsione compiuta anche in un bistro alla moda del centro di Latina 700 euro anche lì non volevano pagare sono venuti qui a fare i capetti sfoggiando il nome di Casa Monica citando anche lì i ciarelli tra l'altro anche se questa cosa è passata un po' sottotono e in quel caso invece ci sono state immediate denunce da parte degli esercenti quindi degli imprenditori sono stati subito arrestati questo ha consentito di arrivare agli arresti in due mesi ora se noi guardiamo le date delle ultime indagini scopriamo che ci vogliono anni quando non arrivano le denunce e questa è la differenza fondamentale quando si denuncia le indagini partono prima partono meglio partono con elementi circostanziati e memoria fresca perché poi se ti chiamano a riferire di un evento di 4-5 anni fa chiunque di noi va incontro a serie difficoltà anche nel fornire quei dettagli che poi in tribunale saranno determinanti perché come diceva giustamente Bernardo poi i processi si fanno in contraddittorio e le prove si formano nel tribunale e non certo nelle procure quindi ecco l'appello di Ponte Corvo mi sembrava è giusto hai fatto bene a ricordarlo io faccio vedere intanto questo con Gigi Papa e do la linea alla pubblicità ci saluta Marco Cusumano adesso arriva Andrea Stabile storie nascoste di Latina parte seconda le altre carte giudiziarie restiamo su questo filone anche se il libro non c'entra niente non c'entra niente con l'inchiesta dell'antimafia eccetera ma casualmente e veramente credetemi è un caso viene presentato domani tre giorni dopo c'è questo blitz dove ci sono in questo libro fa riferimento ad alcuni personaggi politici ancora che fanno politica ma che erano in carica e governavano la città di Latina proprio in contatto con i ciarelli guardate è tutto molto casuale ma evidentemente è il destino grazie a Marco Cusumano il messaggero per essere stato con noi Bernardo Rimane che domani leggerà dei passi di questo libro è arrivato Andrea Stabile in studio guardate è interessante perché anche a chi è dedicato questo libro restate con noi dopo la pubblicità grazie a tutti centro di produzione televisiva e cinematografica gruppo Sciscione in via Giacomo Peroni 130 a Roma zona tecnopolo Tiburtino uscita 13 o 14 del grande raccordo anulare cinque teatri di diversa metratura da 100 metri quadri a 1000 metri quadri con un'altezza massima di 9 metri ognuno con un parco luci completo e di ultima generazione 3 regie full hd con possibilità di 4k 8 postazioni di montaggio sala audio insonorizzata per voice over o doppiaggi 8 tra camerini e sale trucco ampio parcheggio per la sosta di mezzi di produzione cinematografica e televisiva free wifi possibilità di utilizzo uffici durante la produzione servizio di receptionist talent show reality talk show film e serie tv centro di produzione televisiva e cinematografica gruppo Sciscione professionalità grandi spazi innovazione comodità e cortesia a tua disposizione alla racing facciamo materassi su misura in soli 30 minuti anallergici sfoderabili e lavabili non ci si crete ma che stai a dormire svegliete che devono lavorare appuntamento da old wild west è meraviglioso trovare rifugio in questo saloon l'atmosfera della frontiera ti accoglie ogni giorno mani esperte dei nostri cuochi una griglia incandescente i migliori tagli di carne argentina e una botte di allegria per tutti gli hamburger old wild west sono circondati da patatine croccanti e fumanti entra e rilassati qui i duelli si svolgono solo a colpi di forchetta e se scarichi l'app per avere sempre con te la carta fedeltà potrai fare razzia di premi e vantaggi old wild west lo sai gringo c'è solo un posto così alla racing facciamo Madelassi su misura in soli 30 minuti non ci credi? neanche io bravo grazie in via Bernardino Alimena numero 60 zona romanina ci siamo noi 42 66 52 88 88 numeri all'8 no sono taglie e che pensavate? solo donna? no grandi taglie anche per uomo venite a toccare con mano ipermoda alla racing facciamo Madelassi su misura in soli 30 minuti li avvolgiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina così andiamo anche a risparmiare sui soldi del trasporto bravo grazie voi venite quando volete noi intanto ci alleniamo la risorsa la risorsa più preziosa che abbiamo è il tempo soltanto noi possiamo decidere quando rallentare o quando sfruttare al massimo le nostre giornate ma il modo migliore che abbiamo per impiegarlo è investire nei nostri progetti solo ascoltando chi ci è accanto possiamo trovare la forza per realizzare i nostri sogni sicuri di ricevere il supporto di cui abbiamo bisogno perché dalle sfide più grandi nascono le opportunità migliori Banca Popolare di Fondi da 130 anni insieme a voi alla Resi facciamo Materazzi su misura in soli 30 minuti stiamo in via T-B-U-T-N-A tutto attaccato ricordatevi di fare la nuova sintonia dei canali sul vostro televisore Gold TV passa dal canale 17 al canale 11 Lazio TV passa dal canale 12 al canale 13 Roma TV prenderà il canale 82 Tele Regione prenderà il canale 118 la nuova sintonia deve essere effettuata tra il 14 e il 17 giugno per Roma e Provincia Latina e Provincia e Prosinone e Provincia Scarica la nuova applicazione di Lazio TV sul tuo smartphone Apple o Android Seguici in diretta da tutto il mondo Scarica adesso l'app di Lazio TV è gratuita e lo sarà sempre Inizia con un click Allora torniamo in studio saluto Andrea Stabile grazie Andrea per essere con noi stasera domani nella città di Latina l'Evergreen alle 19 verrà presentato questo volume storie nascoste di Latina parte seconda alle altre carte giudiziarie parla ovviamente del periodo in cui il centrodestra ha governato Latina caratterizzato da inchieste che poi non sono arrivate a termine affossate da alcune carte giudiziarie emergono buchi clamorosi cose inquietanti carte che addirittura sono sparite che Stabile ha ritrovato dopo anni e ha pubblicato lo scorso anno in un primo libro quest'anno nel secondo libro insomma i sottotitoli sono inquietanti adesso glieli facciamo spiegare un inquietante sistema costituito da pezzi di politica pezzi di pubblica amministrazione pezzi di magistratura da uomini dello Stato infedeli da pezzi dell'informazione allora rispetto al primo libro tu fotografi ancora indagini che hanno a che fare con quel periodo governava l'ex sindaco Vincenzo Zaccheo c'era l'ex vice sindaco ex vice sindaco all'epoca era vice sindaco Maurizio Galardo che poi viene citato nelle carte proprio sui ciarelli e guardate è una casualità che questo libro venga presentato dopo il blitz perché Stabile che ne sapeva facevano il blitz mercoledì non l'avrebbe mai immaginato però è inquietante quali sono le altre carte inedite e perché decidi di continuare ad analizzare la storia del governo di centrodestra degli ultimi anni nella seconda città del Lazio perché allora innanzitutto precisiamo il governo di centrodestra però in realtà specificatamente stiamo parlando del periodo di Zaccheo sindaco perché le indagini affossate riguardano quel periodo poi in altri periodi magari delle indagini ci sono state vedremo come quello che succederà e perché decido di pubblicare questo altro libro perché in effetti nel precedente noi arrivavamo fino al 16 gennaio 2009 quando Zaccheo viene iscritto nel registro degli indagati per il favoreggiamento nei confronti di Maurizio Calardo indagato per concussione per altri reati però a noi ci interessa il reato di concussione perché parliamo di reati attinenti alla pubblica amministrazione attinenti al comune di Latina e viene indagato per favoreggiamento perché venuto a conoscenza dell'indagine in corso delle intercettazioni in corso svela tutto a Galardo quindi in qualche modo creando un documento all'indagine cercando di favorire e di proteggere Galardo nonostante appunto quindi con queste rivelazioni fa saltare l'indagine diciamo che non la fa saltare perché c'è un chi rivela a Zaccheo delle indagini in corso e delle intercettazioni in corso è a conoscenza del fatto che siano state messe delle cimici presso gli uffici dell'assessorato del comune di Latina ma non è a conoscenza del fatto che un'altra squadra aveva messo delle cimici presso lo studio medico di Galardo quindi in realtà il nucleo investigativo dei carabinieri di Latina nonostante questa soffiata di Zaccheo a Galardo poi gli faccio una domanda che riguarda gli infedeli nonostante questa soffiata di Zaccheo a Galardo in realtà lì presso lo studio medico sente tutta una serie di cose interessanti alcune delle quali l'ho già sono già riportate nel precedente libro in particolare quel colloquio tra Agostino Marcheselli capo di gabinetto del del sindaco che va presso lo studio medico di Galardo e così con nonchalanz parla insomma di questa richiesta di tangente parla del fatto che comunque Zaccheo si sarebbe dato da fare per cercare di sistemare le cose eccetera perché questo secondo libro questo secondo libro perché perché lì eravamo arrivati al 16 gennaio 2009 qui pubblico documenti che partono da rapporti dei carabinieri di Latina che vanno dal 13 febbraio 2009 fino al 20 maggio 2009 e anche ovviamente ci sono dei documenti che riguardano provvedimenti richieste da parte del pubblico ministero e del giudice delle indagini preliminari quindi è un periodo abbastanza abbastanza tra l'altro tu pubblichi e poi scopri chi è la talpa perché in questo periodo in cui si parla di indagini su pezzi deviati e militari infedeli stabile ricostruisci chi era l'infedele l'infedele che fa questa rivelazione viene scoperto ed è un carabiniere poi trasferito cognato di maglietta cognato di maglietta di Pasquale Maglietta siamo nell'era Zaccheo non sono io che vabbè è l'ipotesi cioè no tu recuperi i documenti dei carabinieri lo scopri diciamo la parte buona dei carabinieri cioè quella che stava indagando esatto è l'ipotesi investigativa che fa il nucleo investigativo dei carabinieri di Latina all'epoca comandato dall'allora capitano Luigi Spadari oggi colonnello ed è un'ipotesi investigativa che in effetti si fonda su dati su tutta una serie di dati di circostanze che effettivamente la rendono molto fondata e qui c'è uno dei misteri di questa inchiesta perché in effetti loro fanno questa ipotesi investigativa quindi ci si sarebbe dovuto aspettare che qualcuno poi verificasse se effettivamente chiedesse a questo il cognato di maglietta se effettivamente chiedesse a Zaccheo siccome è certo che Zaccheo ha rivelato a Galardo di queste indagini in corso chiedesse a Zaccheo ma come l'hai saputo invece non succede non succede nulla ecco perché questo libro è molto importante perché secondo me è con questo libro con questo più che altro più che libro le carte giudiziarie che lette insieme a quelle precedenti ci fanno vedere secondo me senza alcuna ombra di dubbio che in un determinato periodo in questa città c'è stato un vero proprio sistema che ha inquinato la vita politica e amministrativa di Latina un sistema basato sul disprezzo delle regole e sull'impunità infatti da questi documenti cosa esce fuori esce fuori che tranquillamente il sindaco che aveva fatto la soffiata a Galardo sull'indagine Galardo che non avrebbe dovuto sapere dell'indagine tranquillamente durante l'indagine in corso le intercettazioni in corso vanno a parlare della questione col procuratore capo della Repubblica di Latina che all'epoca era Giuseppe Mancini altro fatto inquietante stasera la puntata proprio cosa gravissima cosa gravissima nel senso che se c'è un'indagine in corso l'indagato non lo dovrebbe sapere fino a che non gli arriva l'avviso di garanzia a quel punto vede le gare per fare un esempio visto stasera è come se Ciarelli andasse dalla Spinelli quella manco lo fa in trà una cosa del genere viene da sorridere però questa cosa è accaduta alla procura della Repubblica di Via Ezio è accaduta e quindi perché parlo di un sistema latino perché evidentemente è una cosa del genere talmente grave che viene da parlare di un sistema latino non solo ma nonostante le indagini in corso nonostante gli indagati sappiano che c'è l'indagine in corso che è uscita fuori la storia della concussione i rapporti con l'imprenditore che doveva fare i famosi lavori di 40.000 euro da cui dovevano uscire i 10.000 euro di tangente continua ad avere rapporti col Comune di Latina continua ad avere rapporti sia per quei lavori da fare tant'è vero che in un rapporto dei Carabinieri del 2 aprile si fa riferimento proprio al fatto che si doveva fare questa delibera e continua ad avere rapporti col Comune di Latina perché sempre da questi documenti esce fuori che il sindaco in prima persona si preoccupa si occupa del fatto che determinati progetti di finanza credo uno in particolare proposti da questo imprenditore venissero inseriti nel piano delle opere pubbliche proprio lui che si adopera direttamente scavalcando l'assessore alle opere pubbliche parlando direttamente col dirigente dei lavori pubblici ovviamente concordando la cosa con Galardo quindi abbiamo una situazione che è veramente paradossale quasi incredibile un'indagine in corso gli indagati lo sanno sanno tutto di queste indagini la città di Pulcinella perché loro continuano la città di Pulcinella non è che dice caspita è uscita fuori sta cosa fermi no continuano ad avere rapporti con questo nelle carte tu pubblichi anche il fatto in questo libro in cui i carabinieri insomma ricostruiscono che vanno a parlare con il procuratore capo non sto ridendo sono abbastanza inquietato non è un sorriso divertito è amaro molto amaro però tu ricostruisci nel libro in questo libro c'è anche questa storia che vanno dal procuratore capo che sarebbe oggi sarebbe una cosa impensabile insomma ti fermerebbero forse ti anche mi arresterebbe ecco perché parlo di sistema latina basato sul disprezzo delle regole e sull'impunità non solo il nucleo investigativo dei carabinieri di Latina in questa importantissima indagine che veramente io sono contento veramente contento di aver pubblicato queste carte nel primo libro di aver pubblicato queste altre carte nel secondo libro perché va resa giustizia a questi uomini fedeli dello Stato che hanno fatto un lavoro enorme che hanno dovuto subire l'umiliazione e la mortificazione di vedere un'indagine così importante essere affossata hanno subito l'umiliazione di vedere gli indagati che sapevano di essere indagati che parlavano di loro dicendo quegli stronzi dei carabinieri e non è successo niente e potevano subire addirittura la beffa il paradosso di vivere una città qualora avesse vinto Zaccheo amministrata da proprio quei personaggi da quei personaggi che loro avevano sui quali loro hanno fatto questa inchiesta così importante che era stata affossata e da cui venivano definiti stronzi quindi sono contento ed è il motivo per cui ho fatto la dedica del libro e a Luigi Spadari e ai suoi uomini gli va resa giustizia perché in questo specifico frangente nell'ambito delle istituzioni Luigi Spadari e i suoi uomini sono gli unici che hanno fatto fino in fondo il loro dovere e poi in questo libro hai aggiunto delle carte in più che fanno riferimento a quelle indagini adesso sento anche il parere perché non voglio anticipare troppo perché domani c'è la presentazione è giusto che la gente vada a vedere la presentazione del libro domani a Latina in questo libro hai raccolto le altre carte inedite che non c'erano nel primo libro ricostruendo tutta questa vicenda quello è stato il filo conduttore in cui hai dato anche cose inedite giusto? Eh sì ci sono cose inquietanti ci sono delle intercettazioni sulla base della quale i carabinieri scrivono in generale dall'ascolto delle conversazioni di Zaccheo e degli altri soggetti a vario titolo collegati con la gestione dei lavori pubblici nel comune di Latina si denota una spiccata propensione a decidere a priori il soggetto imprenditore destinato ad effettuare determinati lavori nel comune di Latina ancora prima dei relativi bandi di cara ovviamente loro dicono questo perché ci sono delle intercettazioni tutta una serie di documentazioni e quindi insomma insomma domani racconterai anche meglio io ricordo diciamo che domani domani in effetti vorrei più che altro lasciare la parola a Bernardo Bassoli e soprattutto a Emilio Orlando perché sono curioso di capire di vedere infatti l'ho provato anche l'altra volta ma non ci sono riuscito di capire di capire una persona che non è influenzata da nulla perché non è di Latina non conosce personaggi di Latina che legge queste carte e che idea si fa di quel periodo qua a Latina e stiamo parlando di Emilio Orlando non è uno qualsiasi è uno dei massimi è un giornalista uno dei massimi esperti nostro spesso ospite è spesso ospite qui stamattina stava a un convegno all'Aquila in cui si parlava del contrasto contrasta le mafie sono proprio curioso di sapere l'idea che si è fatto Bernardo una battuta breve poi ricordo l'appuntamento perché ripeto non voglio anticipare troppo perché domani c'è la presentazione insomma altrimenti poi diventa la presentazione in televisione domani invece è tra il pubblico tra la gente perché è importante questo libro un telegramma perché vado da mai a chiudere perché è importante questo libro no è importante perché rimane agli atti di questa città probabilmente non sarà io dico la verità quando Andrea mi ha detto che avrebbe fatto la seconda parte di questo libro io ero un po' perplesso e poi invece ho capito perché spesso noi che viviamo la contemporaneità non ci rendiamo conto che invece un libro rimane agli atti rimane più agli atti di con tutto rispetto di una trasmissione televisiva di un articolo di un giornale perché rimane nella storia di questa città diventa storia e mi ha colpito molto al di là dei fatti alcuni dei quali già avevamo pubblicato un po' sul blog la dedica che ha fatto al colonnello attuale colonnello Luigi Spadari proprio soprattutto in un momento particolare che vive l'arma a Latina dopo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Zuppardo ci sono stati un po' di problemi questa è la prova che non bisogna avere non bisogna generalizzare la stragrande maggioranza è gente che fa il proprio dovere poi ci sono altri minoranza che fanno il doppio gioco guardate che è così decine di inchieste però la stragrande maggioranza come diceva Bernardo gente seria che lavora il colonnello Luigi Spadari ha ricevuto la dedica di questo libro proprio da stabile allora ricordo l'appuntamento domani sera alle ore 19 alle 7 della sera a Latina all'Evergreen quindi con il pubblico un dialogo aperto verrà presentato questo libro molto interessante con altri fatti inediti lo presenterà Emilio Orlando giornalista di Leggo Rai 2 eccetera spesso nostro ospiti sarà anche Bernardo Bassoli e ci sarà l'autore c'è anche poi già verrò grazie anche fissato un altro appuntamento io ringrazio l'associazione quartieri connessi che da 18 anni sta facendo un lavoro straordinario a quella la parrocchia di San Luca perché c'è una manifestazione che si chiama Altre Storie e in effetti è la terza edizione diciamo un libro del genere forse ci stava bene in una manifestazione Altre Storie un libro che non è un libro di un partito contro un partito non è un libro di uno schieramento politico contro uno schieramento politico questo è un libro sulla legalità è un libro sulla legalità domani verremo a vederti Maia per chiudere brevemente un flash siamo in chiusura sì una notizia di cronaca questa sera vi è stato un incidente stradale nella provincia di Rieti sulla 1 uno scontro grave tra due camion è intervenuta anche l'eliamburanza atterrata sull'autostrada che ha prelevato una donna in coda a causa dello scontro che si trovava in travaglio ed è stata trasportata d'urgenza al Gemelli di Roma e per concludere una notizia di servizio in programma per domani uno sciopero dei trasporti che coinvolgerà metro e mezzi gestiti da TAC in modo particolare nella capitale a rischio bus filobus tram metropolitane ferrovie Roma Lido e termini Centocelle e Roma Nord la girazione in programma per domani mattina dalle ore 8 e 30 alle 12 e 30 è tutto a te Gidio buona giornata grazie a Maya Bottiglia ci mancava anche lo sciopero per Roma dopo quello che abbiamo detto in apertura ma la grotta è tutto grazie a grazie a Andrea Stabile domani andremo a questa presentazione grazie a Bernardo Bassi l'ho già ringraziato Marco Cusumano Natascia di Roma era qui in tribuna è venuta a vedere la nostra trasmissione ha scritto un bellissimo libro La Dama Bianca che la settimana prossima comunque sia presenteremo quindi Natascia tornerà di nuovo in studio con noi questa sera si è appassionata all'inchiesta e alla cronaca parleremo del suo libro che ovviamente è molto bello nella prossima comunque ne parleremo ne parleremo la settimana prossima grazie grazie a Natascia grazie a tutti voi al nostro pubblico ci vediamo giovedì prossimo come sempre la stretta attualità a Monitor buonanotte grazie a tutti grazie a tutti